Ehi ragazzi, state per vedere la puntata numero 3 del Breaking Italy Podcast, che è però in realtà la quarta. Funziona un po' come il mandato zero dei grillini, credo? Non sono un matematico o un economista, non chiedete a me. L'ospite di oggi è un economista però, si tratta di Michele Boldrin, famoso professore universitario italiano, naturalizzato americano, severo critico del sistema Italia e in molti suoi aspetti, è uno tra i promotori del defunto partito fare per fermare il declino. Boldrin non è solo un economista però, e a dire il vero, non abbiamo praticamente parlato di economia. Se state cercando una lezione di economia, non è qui. Ho pensato fosse inutile fargli fare la lezioncina su Deficit e Minibot. Quelle cose le si trovano già ovunque, lui stesso ne parla di continuo commentando l'attualità, anche su YouTube. Non avrebbe aggiunto niente. Ho invece provato a far parlare qualcuno di varie cose, qualcuno che con i suoi limiti caratteriali che lui stesso ha ammesso durante la chiacchierata, nonostante abbia ampiamente superato quella che è normalmente l'età del fervente impegno politico, unita al fatto che, ricordatevelo, parliamo di un professore americano affermato, un grosso pezzo della sua vita è ormai oltreoceano, abbia ancora voglia di dare il suo apporto. Pur con un sacco di sé e un sacco di ma, adesso lo vedete, ma il suo recente impegno nel progetto Liberi oltre le illusioni la dice lunga su questo. Prima di lasciarvi alla lunghissima e interessantissima chiacchierata, ve lo prometto, ringraziamento doveroso ai supporters del Breaking It Club, che finanziano il podcast, e allo sponsor, NordVPN. Per chi ancora non lo conoscesse, e fosse la ricerca di un metodo sicuro per anonimizzare e proteggere la propria navigazione online, sia su computer che su smartphone, boom, NordVPN, e siete a posto per tre anni. Se scegliete il piano triennale, infatti, scrivendo nel checkout la parola Breaking, usando il link che vi lascio in descrizione, come tanti di voi hanno già fatto, costa 2 euro e qualcosa al mese per tre anni. E avete la tranquillità di stare utilizzando un servizio professionale, non roba strana, con malware, virus, roba varia. Quindi, vi serve una VPN, usate NordVPN e siete tranquilli. Andate a dir loro che vi mando io con il promo code, c'è pure un sistema di soddisfatti o rimborsati e un ulteriore mese gratuito. Bene, è tutto, vi lascio alla chiacchierata con Boldrin, che ho cercato il più possibile di guidare nell'intervista senza che questa finissi a parlare di me e di come io veda le cose. E credo abbia funzionato. Emergeranno molti aspetti dalla personalità dell'economista che io sinceramente non mi aspettavo e che sono sicuro stupiranno anche voi. Mettetevi comodi, sarà interessante. Com'è che si è inventato il Breaking Italy? È una storia relativa ad altri youtuber che facevano una cosa che si chiamava Breaking LA, mi sembrava, no, Breaking New York, qualcosa del genere. E io li seguivo. Cioè l'idea era Breaking News, I suppose. No, era tipo proprio spaccare la città. Ah, era nel senso di spaccare la città. Sì, sì, sì. E quindi ho un po' mischiato Breaking News con Breaking Italy. E invece quando l'ho visto ho detto, beh, farà, volevo dire Breaking News about Italy. No, sì, un po' il gioco era quello. Però quello che ti ha stimolato era... In realtà è una di quelle cose che tu inizi a fare, non sai bene cosa stai facendo, perché poi io sono iniziato così, io avevo 26 anni più o meno quando ho iniziato a fare questa cosa. E quindi anche il logo l'ho inventato un po' io e poi per ragioni sentimentali è rimasto quello. Non è bellissimo. No, 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 vabbè, tenuto. Ok, a tal proposito... Allora, bevamoci a unirto prima, dai. Ah, il mio si beve off camera. No, è buono. Ottimo. Ottimo. A tal proposito, dimmi. Partiamo dicendo questa cosa. Io non so perché sei qui. Nel senso, la prima cosa che volevo chiederti è tu fai quello che fai, sei un docente universitario negli Stati Uniti, io ti ho conosciuto ai tempi di fare per fermare il declino, ti seguivo su Twitter da quei tempi. Mazzate. Sì, da un sacco di tempo. Quindi è stato grazie a quello che ci siamo comunicati, perché poi invece io non sapevo che tu esistevi, dopo che Thomas ha deciso di scaricare... Del Manfredi Gate, ne parliamo tra un pochino. Del Manfredi Gate, ne parliamo tra un pochino. E sono andato a vedere chi è. Ecco. E ho detto, seguiamolo. In realtà la mia domanda non è tanto perché sei qui, ma come mai sei su YouTube? Cioè, come mai, dalla tua posizione, sono per farti i complimenti, la cosa che non è... Non sono tipo... Non facciamoli. Però perché stai andando su YouTube a fare divulgazione? Sì, ho fatto la battuta l'altro giorno sulla mia pagina di Facebook, però in realtà è una cosa che ho in mente e che ho teorizzato da tempo. La battuta era relativa al fatto che è uscito, pubblicato su America Economic Review, un lavoro di tre colleghi giovani, due dei quali italiani, che studiano molto bene, molto attentamente, con strumenti statistici piuttosto sofisticati, l'influenza della, chiamiamola, tv berlusconiana. Ah, ok. Non solo berlusconiana, anche se loro partono da quello, anche perché lui è quello che ha introdotto certe cose in Italia, sull'atteggiamento politico-culturale delle persone con una partizione territoriale molto fine sotto le province, quindi che gli permette di vedere bene dove ha avuto influenza, dove ha avuto l'influenza. Adesso lasciamo stare gli aspetti tecnici, diventano a noi. E il punto è che mostra che tutto questo ha avuto un'influenza culturale, la propensione al populismo, al credere alle escrese. Stiamo parlando dei vent'anni di Berlusconi, diciamo. Esatto. L'arrivo di Mediaset. L'arrivo di Mediaset è, secondo me, anni 70. Quindi abbiamo tutti gli anni 80. Quindi è più di vent'anni. Eh, no. Il signore è lì da quasi 40. Anzi, no, da più di 40 è lì. Diciamo che ha influenza da più di 40. E influenzava questo. Ora, il mio ragionamento è stato, per carità, il dibattito intellettuale va fatto. Un po' mi sento in colpa di esserne un po' uscito, e do tanta voglia di rientrarci. Però va fatto un dibattito, anche a quelle persone che hanno la capacità di ascoltare, che non fanno necessariamente il lavoro intellettuale. e YouTube mi è sembrato lo strumento più ovvio. Proprio così. Perché gli altri social, no. Insomma, inutile che ripeta, Twitter è fondamentalmente una maniera per passarsi informazione e rally the troupe. Non è un luogo per dibattere. Tu lo usi principalmente per insultare. Ne parliamo poi di quello. Sì, sì, sì. Questa cosa dell'insulto... Se vuoi c'ho, c'ho, c'ho... No, non è un insulto. No, io li descrivo. Io li chiamo asini quando dicono... Quando ragliano. Gli asini ragliano. Sì, vabbè. Li chiamo anonimi e vigliacchi quando sono anonimi. Io considero l'anonimia un diritto, però nel momento in cui... Ma stiamo debordati. Sì, non tanto poi ci torniamo. Ci torniamo, ci torniamo. Comunque, la scelta di YouTube è stata quella. È stata... Beh, visto che lo strumento visuale, televisivo, chiamiamolo, audiovisivo, ha questa influenza ed è effettivamente meno costoso temporalmente. Certamente. In termini di sforzo di scrivere un articolo. Ti puoi permettere errori in video. Puoi permettere di parlare così senza aver programmato. Invece l'articolo alla fine lo vuoi scrivere bene. Insomma, ci ritorni sopra, no? E mi sono messo a farlo così. Un po' per caso. Devo dire stimolato da Alberto Forchielli. Ah, ok. Se tu guardi il mio canale. Io ce l'avevo per ascoltarmi le cose. L'aveva aperto mio figlio. Sì. Per ascoltarmi le cose su YouTube. Poi ci avevo messo un po' di cosine a caso di video, di televisione, di apparizione. Mi piace molto. 21 minuti a Perugia sette anni fa, sei anni fa, in cui mi racconto. Fosse l'ho visto. Vabbè, insomma, a me piace. Un po' di narcisismo. L'avevo messo lì. E poi, a un certo punto, Alberto Forchielli, che avevo conosciuto, mi ha coinvolto in queste chiacchierate con lui, che poi ho smesso di fare per molteplici ragioni, e ho visto che era uno strumento per comunicare. Ed era uno strumento facile. Perché io non ho la sofisticazione che hai tu, la preparazione, lo studio, eccetera. Io lo faccio nei miei ritagli di tempo. Quindi... E niente, questo è il motivo, insomma. Ok. E chi te lo fa fare? Eh, questa è una bestia antica. Chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Perché sai perché... Chi te lo fa fare andare all'azione cattolica? Chi te lo fa fare andare a fare la marcia in mani tese quando hai tredici anni? Chi te lo fa fare? Sistemi valoriali, carattere, cultura, tuo padre, tua madre, i tuoi amici, che ne so. I sogni che hai, hai letto Tex e Dumas e ti senti il Conte di Monte Cristo, che ne so. Quella complessità nostra che ci fa fare cose, no? Sì, ma nel senso che io noto che le persone della tua età, questo non prenderà male, ma le persone della tua età sono spesso... Si riferisce ai trentenni. Ovviamente mi riferisco ai trentenni. Sono spesso... Hanno un atteggiamento, non so neanche bene come definirlo, molto di abbandono rispetto alle cose italiane, soprattutto. E li capisco. Molto sconfortati, molto di sconforto e molto... Quindi tu li capisci, cioè nonostante non la vivi questa cosa? Ma guarda, se ti devo dare la risposta onesta, no, no, rischio di andare avanti troppo, quindi tu interrompimi, perché rischio di annoiarti. Allora, anzitutto hai ragione. Pensa al gruppo con cui abbiamo fatto Noize. Il gruppo con cui abbiamo fatto Noize from America si sono tutti scocciati. Di farlo? No, di continuare, sull'Italia. Eh sì. E hanno più o meno... Anzi, io sono il più vecchio. Ok. Degli iniziatori. Poi c'era anche Aldo Rustichini, che ha contribuito Aldo a qualche anno più di me, però Aldo ha contribuito solo per un breve periodo. A Noize from America, lo spieghiamo per chi non lo sa, che era un blog che fondamentalmente... Qual era il suo obiettivo? Era un blog nato nel 2006 su iniziativa di alcuni colleghi più giovani di me, ma tutti economisti in America, nato un po' per ridere, perché eravamo in cinque. Eravamo tutti di origine veneta. Eravamo... Ci conoscevamo tutti... Uno era stato mio studente, insomma... eccetera. Eravamo tutti interisti, per caso. Ok. E ci occupavamo tutti di economia a livello molto accademico, un po' astratto, se vuoi. Uno di noi disse, e gli altri mi sono rotto le... Sì, puoi dire quello che vuoi. Posso dire? Beh, allora vado tranquillo. Ah, dice che il Mirto ci giustifica. Sì, assolutamente. Ma tranquillo. Mi sono rotto le balle della discussione italiana, facciamo un blog, discutiamo fra di noi, perché il livello di cui si discute di economia italiana era il 2006, anzi era la fine del 2005. Quindi già sentivate questo problema? Oh, era tutto chiaro. Cioè, era chiarissimo. Infatti, guarda, se c'è un merito di Nois for America, è il seguente. Se chi ha voglia andarcela a vedere, andate a leggervi gli articoli precedenti alla crisi. Cioè, tutti gli articoli fino al 2009-2010. Ok. E... Ma questo non è perché noi fossimo né particolarmente intelligenti, né particolarmente preparati. Insomma, non voglio buttare giù il gruppo, ma insomma, siamo decenti, ma niente di straordinario. Tutto quello che poi è successo, c'è scritto. Noi abbiamo il nostro, forse il momento più bello, almeno collettivamente, cui ci siamo divertiti, è stato un libretto che si può trovare. Costa 90 cents via Amazon, in HTML, insomma, e-book, lo potete scaricare, costa niente, che si intitola Tremonti, istruzioni per il disuso. Ok. Lo scrivemmo di getto a dieci mani, nell'autunno del 2009, perché uno di noi, Sandro Brusco, era venuto in sabbatico in Italia, e seguendo un po' la televisione, i giornali italiani, noi eravamo in America, la seguivamo meno, diceva, ragazzi, non avete idea, questi non si stanno rendendo conto di quello che sta succedendo, e non solo, Tremonti è diventato l'eroe nazionale, è su tutta la stampa, tutti ne parlano come del grande Salvatore, questo scrive delle stupidate truculente, sta pubblicando libri a manetta, uno più stupido dell'altro, sta gestendo malissimo le finanze, il tesoro, tutto in Italia, questi andranno a sbattere come delle bestie cieche nel giro di un anno o due, e non lo dice nessuno, anzi, c'è tutto un tripudio, bisogna scrivere qualcosa, sanno uno così, e noi, quasi per goliardia accademica, scrivemo letteralmente, nel giro di tre mesi, questo libretto, e poi ovviamente, non avendo tempo, cerchiamo di un editore serio, lo pubblicavamo per una piccolissima casa editrice di Napoli, di un amico, che ne diffuse 5.000 copie che vennero vendute, sparirono, e poi decidemmo noi di metterlo su Amazon a futura memoria, questo per dirti il gruppo, quindi per ritornare alla tua domanda, in realtà, loro sono tutti stancati, ci hanno detto, non c'è speranza, hanno perso fiducia, perché credo abbiano ragione, nel senso che il paese, se voi ci ritorniamo dopo, il paese mi sembra, cioè se devo usare l'analisi cinica del scienziato sociale, il paese è in un sentiero che lo porterà con altissima probabilità all'Argentina, lentamente, che è la cosa che noi chiamiamo il declino, la parola declino è una cosa che esce dal blog, dalle riflessioni del blog, ma io cosa vuoi, non lo so, sempre Sandro ha avuto una battuta bellissima, otto anni fa circa, quando decidemmo io e lui di creare, fermare il declino, da cui poi viene fuori fare, che era, si è mai detto che io mi perdo una battaglia persa, e io probabilmente caratterialmente sono un po' così, mi va di testimoniare, di combattere battaglie perse, devo dire che ci trovo anche un piacere intellettuale, cioè ci trovo un piacere intellettuale nel testare le teorie, nel vedere come le persone reagiscono, nel verificare se certi argomenti reggono o non reggono, se sei in grado di fare previsioni o meno, e questo impegno, chiamalo sociale, di divulgazione, chiamalo come vuoi, è parte di questo, quindi c'è anche un elemento egoistico, c'è sempre un elemento egoistico, cioè io mi diverso, cosa facciamo, certamente, bisogna capire se tu lo fai solo per quello, sarebbe comunque lecitissimo, non lo faccio perché mi piace, mi piacciono gli argomenti, mi piace il contesto nel quale sono inseriti, o se effettivamente pensi che facendo questa cosa tu puoi avere un qualche tipo di impatto nella traiettoria che l'Italia diceva aver preso? Ma, cioè Alessandro, non so, perché messo così, cioè io so che la probabilità di avere un impatto è zero, la probabilità di avere un impatto è molto bassa, è molto bassa, è però appunto, è quello che divertete, ok, mi aspettavo un momento come tu dicesi, no, ma adesso la risolviamo, invece no, no, è una very, very long shot, perché è l'unica roba divertente, le cose facili, vabbè, cioè, questo rischia di portare, per me va benissimo, il programma lo conduci tu, cioè, finisco per parlare più di me stesso, di come sono fatto io, di come ho scelto di vivere la mia vita, che non ha delle cose che forse interessano di più a chi ci ascolta, sì, mi piacciono i long shot, ok, non mi ha mai interessato ciò che è ovvio, anche nella mia attività di ricerca che ho smesso abbastanza di fare, perché? Boh, perché fondamentalmente le cose che mi sembravano complicate di cui mi ero occupato, quelle che ho pensato di essere in grado di rispondere, ci ho risposto, le altre sono problemi aperti, ce li ho lì, se trovo la soluzione scrivo, potrei scrivere paper a manetta su cose ovvie, mi annoia, mi annoia mostruire, non me ne frega nulla di stare a collezionare paper ripetitivi come è diventato purtroppo abitudine nella professione, per cui io leggo studio e scrivo pochissimo da ormai 6-7 anni, e niente, questo dell'Italia, un po' perché voglio anche bene l'Italia, voglio bene l'Italia in senso astratto, ma voglio bene concretamente a una valanga di italiani, amici, conoscenti, parenti, a cui voglio proprio bene, e mi rode il culo infinitamente che questi si facciano prendere in giro, cioè, l'Italia è un paese con enormi caratteristiche socioculturali positive, ed è veramente un po' un mistero per me, perché gli italiani hanno deciso di argentinizzarsi. perché io ho visto il tuo intervento, non so di quanto, qualche mese fa, alla H. Foscari con Cottarelli, e l'ho guardato sì, cos'era, novembre scorso, qualcosa del genere, perfetto, e c'è tutto interessante, magari lo lasciamo in descrizione, ma c'è un passaggio che mi ha fatto un po' ridere, perché Cottarelli era fuori dai miei radar sinché non è andato in televisione, ovviamente, che è poi un po' dove io ho conosciuto te in televisione, e Cottarelli a un certo punto dice io sono in pensione, cioè io sono a posto, però sono diventato un predicatore televisivo, io sono tornato in Italia per fare il predicatore, lo dice in modo comico, per quello fa ridere, cioè sono nei treni, mi sveglio, non so dove sono, e questo mi ha dato un po' da pensare, cioè il fatto che lui a fine carriera ha ottenuto le cose che ha ottenuto, immagino sia contento del suo percorso personale, sia tornato in Italia per andare in televisione a sfidare i politici, dicendo che peraltro si annoia, che non gli piace, quindi non lo fa per divertimento, ma lo fa per quasi senso del dovere, a dire, cioè a fare il predicatore, a dire attenzione, stiamo andando a sbattere, e poi tu mi dici quello che dicevate già in Nois from America, non lo tieni fa. Quindi anche la domanda chi te lo fa fare, mi viene anche per lui, quindi voi avete un approccio diverso alla fine su questo. Arriviamo a un approccio molto diverso, cioè io non voglio giudicare quello che fa Carlo, alcune cose siamo d'accordo, su altre no, anzi io, siccome tra l'altro io sono uno che ama la discussione intellettuale e ama farla con persone intelligenti, io preferisco, è sempre stata la mia passione, anche nella professione, sottolineare le parti su cui non siamo d'accordo, anche con un amico, che sono noiose. Ti racconto un aneddoto, forse tu non sai chi era Kenneth Arrow. No, è un nome che ho già sentito. È una famosissima economista, probabilmente il più grande economista del ventesimo secolo è Kenneth Arrow. Ha morto pochissimi anni fa a premio Nobel, ovviamente ma Kenny avrebbe meritato tre o quattro, che ho avuto il piacere di avere come amico, adesso che è nell'86 quando lui assieme a un altro premio Nobel, Phil Anderson, in fisica, ha creato il gruppo di lavoro sull'economics of complexity al Santa Fe Institute, mi ha invitato, io ero appena finito il PhD e quindi ho avuto modo di conoscerlo dall'86 in avanti, l'ho frequentato moltissimo, perché ero molto arrabbiato che sono andato a lavorare a Stanford dove ero professore e una cosa che adoravo di Ken era che le conversazioni con Ken funzionavano così. Era una specie di vulcano di argomenti, una delle cose divertenti di Ken è che aveva letteralmente una bavetta di saliva che gli scialliva al lato della bocca perché cercava di parlare alla stessa velocità a cui il suo cervello andava, cosa impossibile. E quindi aveva questo movimento ansioso delle labbra che non riusciva a trattenere la saliva. Ma la cosa ancora più divertente era che appena in un argomento lui si rendeva conto che tu avevi più o meno la stessa opinione sua. Le cose che avevi letto o studiato tu erano più o meno che aveva letto o studiato lui. Quindi non c'era nulla di nuovo che lui potesse dire a te o nulla di nuovo che tu potessi dire a lui. Lui diceva Oh, that's okay. Oh, that's so boring. We agree on that. Let's move on to another argument. E c'erano delle volte ai parti qui se tu stavi un'ora con Arro lui cambiava sei argomenti perché appena si accorgeva che si era d'accordo ne cercava un altro alla disperata ricerca dell'argomento su cui non eravamo d'accordo. E io la trovo ammirevole nel senso che c'era una discussione capisci intellettuale e molto molto aperta. A me piace così questa cosa a me dà molto piacere e in parte una delle cose che faccio nell'evidenziare gli aspetti critici o gli aspetti che non condivido nelle posizioni altrui è proprio questa e forse perché assumo la buona fede che era quello che assumeva il vecchio Arro cioè se io e te siamo in buona fede e ci siamo trovati e non abbiamo altro da fare assieme se non il piacere intellettuale per confrontarci sul mondo che punto c'è cosa ci guadagniamo a come dire compiacere l'uno e l'altro dicendoci reciprocamente ma certo Alessandro ma che osservazione intelligente sono d'accordo ma certo Michele come sei brillante che noia no meglio che tu mi spieghi come hai fatto Breaking Italy che io non lo so perché non nasce niente non c'è nulla acquisisco qualcosa a te ok e se posso darti anch'io qualcosa beh venga quindi certo per carità poi gli esseri umani stanno assieme anche per altre ragioni alcuni per il sesso per l'amore per andare in gita assieme per costruire una casa ma nella dimensione del dibattito intellettuale si sta assieme per insegnare qualcosa l'uno all'altro per capire io la vivo così ho capito non so se ti sto spiazzando portando un problema no no non mi stai spiazzando questo ha anche molto a che fare con la maniera in cui io mi pongo sì di questo tra un po' ne parliamo anche perché io credo che alle volte sia come si dice in italiano detrimental all'obiettivo come si dice in italiano detrimental dannoso dannoso sì dannoso un pochino cioè dipende in realtà perché avevo dato per scontato che tu avessi questa idea di voler avere un grande impatto no e invece no no wow quello forse un po' mi piace cioè cosa vuol dire cioè io sono consapevole che una persona fatta come me con il mio atteggiamento e con la maniera in cui io credo il paese avrebbe bisogno di aggiustarsi non può assolutamente sperare di convincere le grandi masse e qui ci sono due argomenti uno personale che lascerei da parte e cioè la mia visione di come dovrebbe funzionare il paese quello che il paese può fare è improbabile che possa convincere la grande maggioranza delle persone e quindi non vale neanche la pena provare tu direi ma perché hai provato a fare fermare il declino mi stai leggendo in testa è ovvio la domanda è l'elefante nella stanza quello torniamo dopo quello è l'elefante nella stanza quindi anzitutto c'è un aspetto personale puoi chiamarlo arroganza elitismo intellettuale a me cioè prima di accettarmi a discutere con tetto ho guardato e ho deciso che valeva la pena ok con altri ho deciso che non vale la pena non mi annoio a confrontarmi ok quindi questo è un aspetto personale poi c'è un aspetto che vale per tutti cioè e questo se vuoi poi ci torniamo l'Italia è un paese dove all'80% sia la cultura che gli interessi di chi ci vive sono tali che purtroppo senza uno scossone essi andranno verso l'Argentina c'è una minoranza che purtroppo si sta riducendo perché la gente scappa di un 20 25% 15 quello che è non so stimarlo esattamente di persone che i cui interessi la cui cultura li spingerebbe a a a far andare il paese in una direzione diversa però queste persone si sentono sconfitte si sentono isolate si sentono abbandonate si sentono tradite alcune giustamente dicono ma che me ne frega alla fine io sono bravo a fare quel lavoro il resto del paese non mi vuole ascoltare si fottano certo questo è un atteggiamento che ho trovato in molti capaci imprenditori guarda io ci ho anche provato però francamente sì sì che poi è quello che dicevo anche prima la telecamera è spente che molto del mio pubblico che sono giovani che hanno voglia di fare che sono andati via vanno via la maggior parte no la maggior parte assolutamente no ma tanti però tanti vanno via perché a un certo punto dicono a me chi me lo fa fare di continuare a stare qui a sbattermi se effettivamente non ho un feedback dall'altra parte se non gliene frega niente e hai la stessa relazione fra quelli che rimangono cioè una delle cose che ho scoperto sia nell'esperienza di fare ma anche prima anche dopo è una quantità di persone molto capaci di successo che dicono sì io sono rimasto per questo per quello la mia condizione familiare l'impresa però che il paese il paese va va da dove vuole andare io quel desiderio che avevo di impegnarmi socialmente se n'è andato non ne va la pena ho ricevuto solo sberle sputti in faccia io mi dedico a fare i soldi o a aver successo la mia carriera eccetera eccetera e questo è un problema allora rispetto a questi forse ecco se stavi cercando una motivazione mia a me va bene rally the troops allora a costoro a me pare sia quasi doveroso dire hai presente quell'inno famoso dei del che cantano nello stadio dei Celtic prima di ogni partita sì you will not stand alone sì ok you're not standing alone ok quindi di fatto tu non ti poni in prima linea in questo momento no no mi pongo in prima linea nel senso di dire a queste persone guardate che non siete da soli non siete da soli sono un faro cioè sono una di quelle persone no ma non io ma siamo in tanti ci siamo in svariate dimensità comunque per quanto mi compete ok io sono qua io dico le cose io faccio le analisi rendetevi conto che infatti per lo che dico continuamente anche in maniera molto violenta anche a chi la pensa come me è smettetela di lamentarvi sì smettetela di compatirvi smettetela di chiedere che vi facciano un partito che vi facciano un movimento che vi facciano la rava la fava perché allora siete come questi altri fatevelo cioè non siete i migliori non siete quelli che hanno montato l'impresa non siete quelli che hanno fatto lo studio dentistico super quelli che hanno scritto il libro quelli che hanno creato la stazione televisiva insomma quelli fatelo assumetevi la responsabilità non siete soli però portate il vostro granello guarda mi è arrivato proprio ieri un'email bellissima di un ragazzo di stanford che non menzionerò professore giovane avrà le tatua che è pieno di incognimenti dovete fare e io gli ho risposto armiamoci e partite e lui molto ha capito subito ha detto ma no assolutamente se fate io torno guardi perché qua e là mi ha scritto varie cose ma quindi è un italiano che lavora stanford un italiano o uno dei tanti sì per carità infatti ma infatti c'è una domanda la tirerei fuori adesso però non so quanto se può essere deprimente farla a questo punto perché c'è Elisa ho preso qualche domanda dal pubblico ma guarda ci beviamo un altro po' di mirto perché prima mi ha sfidato ha detto mi fido sei veneto e allora io ero sicuro che non mi avresti deluso la domanda di Elisa è quale pensa possa essere un contributo utile da parte di chi abita all'estero da emigrato perché sicuramente anche Elisa è emigrata da qualche parte non c'è scritto dove possiamo fare qualcosa noi emigrati quindi si riferisce anche a te per aiutare l'Italia a risollevarsi parliamogli io credo che ci sia un problema enorme che durerà decenni letteralmente di cercare di lavorare progressivamente sulle nuove generazioni guarda francamente oltre i 50 oggi o anche oltre i 40 la percentuale di residenti in Italia disposti a confrontarsi con la modernità con la contemporaneità meglio per non fare confusione con la realtà dei fatti con la origine del nostro declino è molto bassa molto bassa questo non vuol dire per carità se non voglio ascoltare ascolti non c'è nessun problema però mi sembra come investimento pedagogico come investimento intellettuale a me non avere enormi risorse forse è il caso di lasciar stare per cui io anche ecco di nuovo la tua domanda prima YouTube un'altra cosa che mi sono detto è stata quella chi è con chi è che riesco a sintonizzarmi a capirmi con chi ha meno i 40 con chi ha meno i 40 anni più o meno io ho anche poi dei 65 anni mi vado assolutamente d'accordo ma non è quello statisticamente esattamente e quindi YouTube assolutamente è uno strumento perfetto da quel punto di vista i podcast e i video sono cose che le persone della mia età usano pochissimo e quindi la mia risposta a questa Elena non Elisa Elisa che ci scrive è contribuisci scrivi non lo so pubblica fai dei video produci materiali aggregati non so vieni a Liberi Oltre e proponi un podcast noi stiamo cercando di fare è una battaglia culturale che durerà ci vorranno tre Breaking Italy io adesso ti conosco meglio vedo e vedo che tu stai facendo la tua battaglia culturale palese anzi è molto ammirevole a mio avviso perché io l'avevo un po' come una missione io ne ho fatto una missione di quello che faccio perché caratterialmente ho questa cosa di fare per gli altri ma a prescindere da Liberi Oltre adesso ci arriviamo comunque questo è quello che possiamo fare si tratta di cambiare per quello io insisto molto sulla scuola ecco la grande battaglia che mi piacerebbe combattere proprio combatterla a livello di massa è riuscire a stimolare un movimento che chieda un radicale che chieda la distruzione della scuola gentiliana che la rasassimo proprio il suolo via tutta questa pacottaglia orrenda che ha distrutto il paese e ricominciassimo a ricostruire la scuola dall'elementare in avanti sulla contemporaneità su ciò che deve servire buttando a veramente amare tutto il disegno gentiliano è la cosa la mia battuta aboliamo il classimo quello vuol dire aboliamo gentile chi ha voluto capire l'ha capita ma we agree on that ma ce li abbiamo cioè tu hai parlato sarà una battaglia di decenni ma li abbiamo 10 anni li abbiamo 15 anni sì 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 ma tutti i paesi hanno tutto guarda l'irlanda guardate l'irlanda l'irlanda è un paese in decadenza in paese in stagnazione decadenza per più di un sempre in un certo senso sempre in un certo senso se togli i monasteri medievali poi va bene la visione inglese mille storie l'irlanda ha diriffe o diriffe per mille piccole ragioni interne ma quasi in maniera miracolosa nel 1900 tra il 1983 e il 1985 avvia un processo di riforma delle sue politiche sociali delle sue politiche fiscali del suo atteggiamento verso il mercato del lavoro eccetera anche per la parte scuola ma andavano meglio già di noi da quel lato e schizza cioè l'irlanda è la mi stai parlando di cent'anni no di 1915 infatti sto parlando di un paese che aveva un declino o una stagnazione o una condizione come dire periferica che durava da centinaia di anni in realtà da centinaia di anni dal 1600 perlomeno quindi in un certo senso un paese perso questa provincia misera della grande Albione con un pezzo addirittura occupato di protestanti eccetera 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 un paese dove si beveva solo la birra dove avvenivano cose tristi al più divertenti Dubliners però non particolarmente dinamiche che cambia un po' di regole del gioco parecchie questo dà un impulso un atteggiamento anche della popolazione diverso e passa cosa sono passati dall'85 ad oggi 30 35 anni quando viene il 20 35 anni in 35 anni passa ad avere un reddito per capita che è due terzi forse meno dell'italiano di allora ok viaggiavano attorno al 60% del nostro reddito ad avere oggi un reddito che probabilmente è più del doppio dell'italiano quindi non ci sono necessariamente destini in un paese nel senso che poi le generazioni cambiano le persone muoiono le culture si evolvono quindi non è che bisogna rinunciare a priori molti pensano che l'Italia finirà in una catastrofe greca ho visto che oggi S&P 500 si sono messi a dire eh siete sul sentiero greco sì l'Italia è sul sentiero greco però è un sentiero io non vedo il precipizio io non sono uno convinto che ci sarà il grande precipizio fra qualche anno il patatrack improvviso io per cui l'ho sempre usato la parola declino mi arrogo il diritto di dire che me la sono inventata io sì in questo contesto in questo contesto di averlo usato per me è un declino è un lento a volte accelera come tra il 10 e il 14 senza altro accelerato può darsi che l'anno prossimo acceleri di nuovo a volte smotta no no ma non vedo una una catastrofe quindi tutti gli amici per esempio che dicono ma alla fine andremo a sbattere si sveglieranno si dice che non è plausibile non è plausibile non è plausibile e con la garda in banca centrale ancora meno perché poi l'unica maniera in cui ma perché le catastrofi sociali avvengono lentamente infatti per quello bisogna studiare Uruguay Argentina questi paesi ok certo si può finire in una dinamica venezuelana l'Italia potrebbe avere c'è qualcuno che ci sta provando se vuoi dopo ci torniamo sì sì anche subito c'è qualcuno che chiaramente ci sta provando ok a giocarsi una dinamica venezuelana quindi il Chavez italiano che che c'ha come l'altro Chavez c'è pure è abbondante diciamo così fisicamente è una massa corporea non indifferente potrebbe anche stai parlando di Matteo Salvini lo diciamo per chi per chi non c'è certo certo Matteo Salvini quello con le mani sudaticce e floffie ah perché questa cosa perché l'ho incontrato un paio di volte in vita mia anzi l'avevo anche visto quando io beh tu sai che è un passato complicato perché perché tu sei stato in Lega o comunque io sono stato il consigliere di Pagliarini quando era ministro e ho cercato di dare una mano a quella parte di Lega che mi sembrava avere un cervello fra il 93 uno che pensa che il federalismo sarebbe estremamente utile all'Italia quindi tra il 93 e quando poi quell'uomo di cui ho sempre avuto profondo disprezzo cioè Umberto Bossi decise decise di di fare quella follia di mandare a carte 48 il primo governo Berlusconi e vendersi le follie del 95 che poi cercò di riparare inventandosi indipendentismo io dissi manteni i miei rapporti con con Giancarlo e alcune altre persone in Lega che erano delle persone per bene però dicono ragazzi non esiste queste follie non ci sto quindi vedi il ragazzo circolare al tempo lo reincontrai dopo e quindi qualcuno mi raccontava chi era eccetera la gente parla lo reincontrai dopo in un paio di dibatti televisivi queste mani suddaticce e false da allora e sono un ricordo vero Matteo cosa vuoi che ti dica così sei che tipo è Matteo Salvini posso dare un giudizio assolutamente un tipo sgradevo ok un uomo ma non ma lo conosco poco insomma l'impressione mia la mia impressione è sì ma li ricordo c'erano al liceo quelli così c'erano al liceo c'erano quelli con le frustrazioni e le ambizioni nello stesso tempo quelli disposti a dire tutto il contrario di tutti quelli che avrebbero voluto essere molto intelligenti e bravi a scrivere in italiano anche in matematica ma non ci riuscivano fino a una rivista stai dicendo è senz'altro una grandissima rivista infatti è una delle domande che mi faccio perché da quando è diventato palese che questo governo si sarebbe realizzato ben prima delle elezioni io l'ho scritto questo ben prima delle elezioni sì sì anche io i rossobrunati insomma l'espressione l'ho coniata allora la mia domanda è sempre stata al contrario di molti amici che hanno visto nel 5 stelle la salvezza no il grande pericolo il grande pericolo il mondo nostro mio almeno no c'è un odio sviscerato viscerale per per 5 stelle per carità io ho un profondo disprezzo per questi però era anche chiaro che non avrebbero avuto perché non c'era tela da tessere Salvini e la Lega sono una cosa più complessa cioè essi loro hanno assorbito fino in fondo e fatto proprio da lungo tempo una visione del mondo che è quella che sta dietro a Putin che sta dietro alla rinascita del del reazionarismo europeo no del movimento reazionario europeo e nessuno parte e quindi la vera domanda per tornare alla cosa a cui siamo partiti l'analogia con Venezuela e Chavez è qual è l'endgame di di Salvini se tu segui da quello che ho capito io ho una domanda che pongo ossessivamente agli altri tre della chiacchierata anche a molti con cui discuto sul canale perché la parte in cui non riesco a decidere è se costui che mi sembra un cinico disposto a cambiare bandiera molto rapidamente se gli conviene vuole solo il potere e quindi a seconda di cosa sia utile per mantenere questo suo status che deve dargli grande piacere cambierà orientamento si adatterà pur di mantenerlo o se è diventato un ideologo e cioè uno che ha come obiettivo davvero portare l'Italia all'interno del progetto putiniano che poi dire putiniano è far troppo di Putin di un progetto che va anche al di là di Putin che è quello della ricostruzione di un'Europa chiusa medievale bianca autoritaria dove ci sono i capi dove la liberale democrazia è morta dove ci sono le tribù i riti eccetera eccetera ecco se va per questa seconda strada a fare il Chavez allora può essere che il paese crollo ecco ma infatti hai è interessante che tu hai questa tendenza a capire prima le domande che sto per farti probabilmente perché è abbastanza palese il percorso perché parlando di questo declino io ovviamente non ho le basi come le tue per capire se effettivamente una cosa è un declino oppure se è proprio un precipizio cioè reagisco un po' dalle cose che vedo il precipizio può venire solo dalla crisi finanziaria ecco appunto la crisi finanziaria può venire solo dal fatto che l'Italia a un certo punto e questo lo rischiamo continuamente con questi pazzi al governo ma anche con quelli precedenti in un in un'operazione di rifinanziamento di debito pubblico in scadenza di 50 70 10 20 30 miliardi ha difficoltà a piazzarlo perfetto e quindi finisce a non avere cash letteralmente cioè il ministero del tesoro nei suoi conti correnti siccome i prestatori non gli rinnovano il debito giusto non ha di che pagare certo e quindi entra in una situazione di default questa è una possibilità questa possibilità può sempre essere evitata da un intervento anche come dire di moral suasion cioè semiocculto della banca centrale europea ecco io sono dell'opinione che chiunque sia in banca centrale europea lo farà se fosse necessario perfetto perché perché ci vogliono bene no ma perché non sono pazzi al contrario nostro non sono pazzi certo ma appunto io stavo dicendo questo perché io ho sempre avuto questo io come tanti questa idea quasi tranquillizzante del fatto che effettivamente ci sono queste istituzioni europee per fortuna che c'è l'Europa per fortuna che ci sono tutte queste figure che evitano che noi stessi ci spariamo sui piedi esattamente ma recentemente una sorta di aneddoto sono andato i pazzi quando è saltata fuori la storia dei mini bot perché anche perché io ho avuto un figlio recentemente quindi congratulazione grazie quindi ho iniziato a guardare i tuoi figli quindi sai che improvvisamente cambia tutto perché prima sei solo tu e dici vabbè me la cavo improvvisamente dici no attenzione e quindi quando è saltata fuori la questione dei mini bot e io l'ho approfondita perché la dovevo spiegare ho iniziato a vedere che poteva essere pericolosa quindi ho contattato varie persone adesso non faccio i nomi perché poi mi hanno parlato privatamente sono le 24 ore qualcuno che si coppa di trading insomma varie persone che hanno conosciuto sia Borghi che Bagnai e mentre loro mi spiegavano che questa cosa poteva essere pericolosa proprio perché poteva essere usata come un grimaldello per farci cacciare dall'Europa certo ho iniziato a chiedermi perché proprio come tu lo pensi di Salvini perché fare una cosa così palesemente pericolosa per tutti quindi anche per te che l'Italia l'abiti e cioè è sempre il discorso perché 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 la prima domanda su sulla coppia su BB e BB assolutamente se mi vuoi parlare di Borghi e Bagnai perché tu li conosci Borghi e Bagnai purtroppo è un disprezzo sovrano potrei dire solo cose molto pesanti tutti i personaggi che abbiamo citato sinora no 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 Salvini è pericoloso Borghi è un poveretto Bagnai è un frustrato cioè sono due non merita però sono due strumenti che Matteo Salvini abilmente utilizza diciamo sono l'oggetto sono lo strumento il i pupazzi come si chiamano nella nella sì pupazzi no che il puparo utilizza per tenere in piedi e tenere legata a sé un'ala che è stata fondamentale nella creazione della sua successo politica quello dell'estremismo distruttivo letteralmente e veramente nazionalsocialista di cui questi due soggetti sono ottimi rappresentanti e che loro attizzano infatti vedi dove ho imparato che Twitter è una cosa che serve solo per rally the truth ma guardando a quello che Bagnai e Borghi che io chiamo rispettivamente Vater e Crostarolo fanno su Twitter come lo utilizzano come lo utilizzano non lo utilizzano per dibattere con nessuno infatti Bagnai che mi invitò a dibattere nel 2014 ci andai in quel di Pescara dopo aver fatto una pessima figura davanti al suo pubblico con me mi bloccò immediatamente su Twitter perché perché era facile mostrare che raccontavo bugie lo stesso ha fatto Borghi poi passano il tempo ovviamente a seguirmi di nascosto e la gente è una cosa folle se ci pensi era questa questa è la psicopatologia se la fanno degli adulti senz'altro mamma mia è una cosa da star male cioè a me arriva continuamente persone che mi mandano i screenshot di Borghi ha detto questo di Ted e io ma stanno male ma curatevi ma prendetevi delle pastiglie ma andate a correre il 100 km in bicicletta che vi passa cioè fate qualcosa non state bene però qual è il punto il punto è che loro utilizzano lo strumento Twitter to rally the truth e cioè per dire alle decine di migliaia perché le decine di migliaia sono di lemming loro fedeli guardate che siamo in guerra è una ritirata tattica adesso l'euro lo distruggeremo perché perché su quello hanno costruito la loro funzione e a Salvini va benissimo avere una trembling hand come si dice in teoria dei giochi cioè una componente del partito dove la mano trema c'è questa idea dei giochi che magari stiamo facendo una strategia di equilibrio in cui non succede niente di strano però uno di noi due ha la mano che trema e potrebbe essere che parte il colpo senza volere e quindi questo implica un comportamento diverso sia tuo che mio ecco loro sono quello ma tu pensi che queste persone siano consapevoli di essere questa cosa qua ma qui occorre queste persone credono adesso mi stai spingendo hai capito il soggetto io non mi tiro davanti no non è che ho capito il soggetto è che io non capisco perché qualcuno potrebbe fare delle cose ma tu non capisci che ci sono delle persone che hanno una visione di se stessi che è diversa da quella che tu e io o altri vedono esistono questi soggetti sono tanti io ti sto chiedendo se queste persone sono questa roba qui credo che nessuno di loro due abbia una percezione reale di se stessi credo che nessuno di loro due si veda per come sono visti da fuori credo preferiscano vedersi attraverso gli occhi del più stupido fra i loro followers che non ha del più intelligente fra quelli che li osservo da fuori dei loro ex colleghi quindi è una questione di governare tra le rovine no è una questione che questi due io andrei oltre questi due cioè esiste un mondo che si è costruito un ruolo politico anche una posizione di potere ce ne sono anche le 5 stelle e anche degli ottimi redditi adesso non voglio essere cattivo però insomma l'associato il professore associato Bagnai era uno che faceva il pendolare da Roma dove non l'avevano voluto in cattedra perché troppo mediocre che andava a pescare se qua vorrei non voglio entrare nei dettagli noti a tutti dell'accademia italiana capisci se tu sei di Roma e sei l'allievo di uno anche a Roma molto potente vieni mandato a Pescara come dire come si faceva una volta con con i prelati destinati potenzialmente a una grande carriera un po' devi andare in provincia a farti gli ossi tutte le grandi chiese hanno sempre fatto così poi se vali ritorni da ordinario alla casa madre che una volta era la sapienza adesso si è ampliata a Roma ce ne sono tre se dopo vent'anni tu sei ancora a Pescara sei ancora associato vuol dire che non sei riuscito nemmeno a convincere i baroni a cui devi la carriera che vali qualcosa ed è una vita triste se ti consideri un genere una vita triste devi fare pendolare devi andare in provincia a insegnare insomma capisci beh diventare senatore del regno no scusa della repubblica è è altra cosa cambia tutto fra altre cose devi stare a Roma a il livello di reddito lo status vai in televisione ti ascoltano quindi beh è tanta cosa se tutto quello che sei riuscito a fare nella vita è scrivere due paper completamente ridicoli capisci è tanta roba e non hai nessuna intenzione di buttarla via siccome si regge su quello e tu le truppe continui a dirgli che guardate che prenderemo la cittadella è solo questione di aspettare perfetto quindi è tutto falso certo è tutto falso certo è una presa per il culo ah si è una presa per il culo è una presa per il culo con 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 questi due elementi però uno è il trembling hand che quando prendi in giro per troppo tempo e provo per troppo tempo quando bleffi per troppo tempo rischi di partire il colpo ok quando sei lì continuamente col dito su grilletto che dici guarda occhio che rischia di partire il colpo e se c'è se sei se il tamburo ha girato che c'è il colpo in canna poi parte la pallotola quindi c'è questo rischio qua l'altra che era quella la questione seria a cui io davvero non so dare risposta è quella relativa al capo e cioè il capo è uno che cerca solo le foto opportunity l'abbraccio di massa la vita comoda di sentirsi adorato eccetera 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 e non far niente perché come abbiamo visto non governa o è diventato un ideologo vero è stato davvero afferrato dai Savoini dai D'Amico dai suoi da questo mondo in cui vive da quasi 30 anni e davvero vuole provare a dare la spallata quando quando verrà il momento in Italia e far far fare all'Italia il salto fuori dalla liberal democrazia ecco questa è la domanda seria io onestamente a questa domanda ancora non ho una risposta credo che il punto sia lì che nessuno perché in realtà tutte le persone che io ho contattato che sono appunto giornalisti ma un economista ho sentito varie persone tutti mi hanno detto questa cosa qua mi hanno detto non lo so non capisco se effettivamente quale sia l'endgame esatto qualcuno ha proprio usato la parola endgame o anche noi già io infatti con gli altri io glielo appongo ma qual è l'endgame e ogni volta che c'è una mossa per esempio questa scelta dall'altro giorno di dire queste frasi pesanti su Conte qual è un'altra di quelle cose che ti fa rievalutare per l'ennesima volta qual è l'endgame di questo perché appena ha fatto il giochetto e ha autorizzato Conte e Tria di fare i passi di minuetto con la commissione un'ulteriore prova che la commissione non sono pazzi che dicono fondamentalmente gli italiani si vogliono lentamente suicidare si suicidino purché non tirino dentro noi certo vadano a un certo punto fra 10 15 20 anni diventerà così ovvio che sono diventati una variante della Turchia che potremmo sganciarci c'è un problema però per adesso per adesso cerchiamo di mantenere da un lato le forme quindi ci sono delle regole e dall'altro evitare degli scontri frontali quindi cosa ha fatto la commissione appena il governo italiano si è offerto attraverso Tria e conto di fare il gioco del minuetto si e adesso aggiustiamo che si spuntano questi 3 miliardi di qua 4 di là raschiamo il fondo del barile le casse depositive diciamo vabbè d'accordo sospendiamo la procedura vediamo se fatti bravi l'anno prossimo e per un anno o meglio per 6 mesi siamo a posto quindi quello ti fa pensare ok vedi allora era tutto falso era tutto falso Salvini gli piace camminare sul filo del rasoio però quando è il momento dice vabbè facciamo il gesto poi all'improvviso certo questa cosa russa è ben altra cosa perché è cosa sé assolutamente però decide di uscirsene con questa frase molto confrontessa che in un paese normale avrebbe portato immediatamente una crisi di governo certamente certo non mi interessa quello che ha da dire il presidente del consiglio il vicepresidente del consiglio in un governo di coalizione di due partiti uno dei due partiti dice non me ne frega niente non me ne frega niente di quello che dice il presidente del consiglio lui parlava avvera io mi faccio gli affari miei il giorno dopo il governo finisce alle camere anche il fatto che lui non vada al senato a riferire non gli ne frega niente dica è tutto falso esatto e di nuovo uno si dice ma questa roba lo sta facendo perché deve convincere i suoi che lui è tough che lui è duro che lui se ne frega questa espressione che ha o vuole davvero provocare la crisi istituzionale di nuovo anche perché sa chi c'è dall'altra parte dall'altra parte sa di avere un partito prigioniero a questo punto di se stesso guidato da un poveretto patetico con i capi che fondamentalmente si sono dissociati credo che quelli della casa legge si siano resi conto di non riuscire più a controllarlo Grillo è il buffone che non parliamo nemmeno Movimento 5 Stelle è una cosa praticamente allo sbando si si lo dico spesso Movimento 5 Stelle è finito finito tutto tradito tutto la feccia si è dimostrata per quello che è se lui questo lo sa certo e quindi sa che li tiene per i cosiddetti quindi può permettersi di schiaffeggiare anzi lui sa che c'è una componente già si è mangiato quasi metà del loro elettorato sa che c'è un'altra componente che apprezza l'uomo forte che non gradisce queste debolezze il mandato zero sì certo queste idiozie no alla Di Maio e quindi può essere benissimo che queste uscite siano calcolate per dire all'elettorato 5 Stelle tranquilli tranquilli io sono un uomo vero non mica come con lo sbarbatello con la cravatta questo lo scopriremo col prossimo governo che sarà di destra ovviamente sarà la destra sovranista e chi lo sa ecco quello sarà il grande quesito cioè secondo te io davvero lo chiedo secondo te quando lo fanno io sospetto che verrà giù tutto dopo la manovra economica o poco prima o poco dopo la manovra economica in realtà io avevo detto che sarà dopo l'estate l'avevo detto già in tempi non sospetti perché bisogna il problema sono gli italiani che si rendono conto che gli mancano soldi in tasca secondo me proprio banalmente il problema è quello lì sinché tutto è fantastico sinché tutto è virtuale sinché continuiamo a parlare di Europa che ci mette i bastoni tra le ruote ma noi che ce la faremo perché siamo più svegli tutte queste robe qui i soldi che ci sono tutte queste storie qua e tutto il resto dei discorsi tipo sì ma è tutto deficit sì ma stiamo regalando soldi con il reddito di cittadinanza eccetera penso che gli italiani non reagiscano ovviamente dico gli italiani sono non tutti gli italiani ma un pezzo di italiani sì anche lì dopo magari se hai il tempo torniamo perché sì sì abbiamo tutto il tempo ormai questa roba degli italiani è diventata sì sì infatti penso che improvvisamente siccome io parlo con persone che votano lega convintamente o che dicono eh vabbè cosa devo fare non c'è altro di meglio che è un po' è un modo paraculo di dire no comunque voto quello dovesse succedere qualcosa tipo ad esempio aumenta l'iva allora lì allora lì potrebbe esserci una reazione di qualche tipo perché poi la politica italiana tu lo sai meglio di me funziona così funziona questi grandi fuochi di paglia queste grandi passioni che le persone hanno per questi leader eh sinché il fuoco di paglia non esiste più improvvisamente eh e tutti si chiedono ma come cioè un secondo fa era la persona che avrebbe cambiato l'Italia eccetera il secondo dopo non è più così per Renzi per quanto mi riguarda eh io questa cosa l'ho vista ho visto tantissimi anche di destra che dicevano ex berlusconiani che dicevano io cioè Renzi finalmente l'Italia sembrava lì a un passo da cambiare e poi è stato un attimo che Renzi non poteva più uscire di casa che gli tiravano le cose dietro è stato un attimo quindi io sospetto che questo questo possibile cambiamento eh con gli equilibri di governo debba avvenire prima della realtà debba avvenire prima di un qualche tipo di inciampo cioè perché tu pensi che lui voglia perché sai la questione sulle cose dell'IVA è banale può essere l'IVA può essere un altro elemento sì sì comunque quella specie di mina vagante è un po' difficile a questo punto da evitare perché o loro trovano maniere di tagliare spese che rendono non necessario quindi si può in estremis eliminare l'aumento dell'IVA oppure questo è già nella legislazione ovviamente c'è un'altra soluzione che è di nuovo la parte interessante da vedere cioè che la commissione decida di concedere e molti ci stanno lavorando all'Italia un'ulteriore dilazione permettendogli di risforare il deficit previsto e quindi ricomincia la storia di cui si parlava prima e si riapre in una specie di altro periodo di riallineamento il punto qui non è tanto se la commissione qui la cosa diventa complessa perché peraltro non è tanto se la commissione può permetterlo di per sé l'Italia può fare quello che vuole nessuno glielo l'unica cosa che la commissione e gli altri paesi europei possono dire guardate che state violando i patti con noi noi saremmo arrabbiati perché ci siamo fatti delle promesse reciproche e noi ci siamo comportati in una certa maniera corretta voi lo state violando la chiave su quello diventere immaginate una situazione in cui tra settembre e novembre l'Italia decide il governo italiano decide di di togliere di passare un pezzo di legislazione che elimina gli aumenti dell'IVA attesi che mantiene il trend della spesa e che quindi fondamentalmente decide di aumentare sostanzialmente il deficit dell'anno che viene e quello seguente la commissione reagisce facendo l'arrabbiata perché non deve fare altro a questo punto però la chiave di tutto cos'è? è come reagiscono i famosi mercati che la gente chiama mercati però sono le banche italiane i risparmiatori italiani sono persone concrete sono un po' di investitori esteri però oggi è una minoranza sono ovviamente le valutazioni di queste agenzie di rating che per lavoro devono dire hanno fatto una scelta pericolosa non hanno fatto una scelta pericolosa in quella situazione lì tutto dipende sia dalle aspettative di questi sia dalla reazione che può avere la banca centrale europea la quale può decidere anche senza renderlo tanto pubblico di avere un comportamento di intervento di moral suasion a favore dell'Italia per evitare che lo spread italiano vada a 600 capisci è tutto molto non ovvio sì certamente è tutto molto non ovvio e quindi è tutta questa pappardella per dire cosa che io non sono non riesco a vedere una crisi di governo in arrivo cioè io sono convinto che la crisi di governo verrà quando il signor Salvini riterrà che Berlusconi sia definitivamente morto sepolto che i suoi giornali siano per sempre e comunque in mano sua e quando riterrà di aver succhiato a sufficienza l'elettorato del 5 Stelle in maniera tale da poterlo sputare e quello che rimane finirà per coalizzarsi a maniera o nell'altra con zigaretti per costruire il populismo italiano di sinistra con il quale lui avrà ben facile gioco dicendo banda di comunisti con loro non si può governare ecco se io devo fare uno scenario il mio futuro questo qui questo qua io non lo so perché non so se sono d'accordo perché io trovo che molti dicono questa cosa qui oppure che principalmente questo che Salvini non sappia se ancora effettivamente gli conviene staccare la spina io credo che Salvini sappia che non gli conviene mai staccare la spina perché tutta la retorica di Salvini però anche della Meloni di tutta quell'area che chiamerei sovranista è sempre di deresponsabilizzazione sono sempre gli altri il problema è sempre colpa degli altri che è un po' un problema italiano magari più ne parliamo perché tu parli spesso di vittimismo italiano di questa roba qua che credo sia molto vera in questo momento secondo me Salvini è nella posizione migliore possibile perché ogni cosa che succede le colpe le può deflect le può spostare verso i 5 stelle qualsiasi cosa non vada bene lui la può scaricare sui 5 stelle e credo che a un certo punto dovesse a un certo punto aumentare l'IVA o qualcosa di brutto lui possa rompere in quel momento e dire visto è colpa dei 5 stelle dobbiamo togliere il reddito di cittadinanza perché è colpa loro è colpa loro che volevano l'assistenzialismo è colpa loro che volevano spendere i soldi in modo sbagliato invece noi dobbiamo far ripartire il paese con la flat tax e credo che a quel punto sarà proprio lo scarico di barile finale che ucciderà i 5 stelle che sono fondamentalmente già morti e non hanno alcun elettorato perché chi li votava da destra ormai sta andando a destra chi li votava da sinistra si è bruciato la mano e non li vota più e non si sa bene cosa farà avevano promesso il paradiso socialista in terra esattamente la fine della povertà e tutte queste robe qui e quindi avevano ricevuto anche tutto il sostegno che è comunque sempre molto importante della parte culturale del paese degli artisti che adesso li stanno abbandonando ma addirittura mi aveva fatto sorridere Fiere Lamannoia che aveva detto è colpa della sinistra che non ci aveva detto che il Movimento 5 Stelle era non li seguo la signora Marina Mannoia ha dichiarato che che era arrabbiata con la sinistra con la memoria perché non aveva spiegato che il Movimento 5 Stelle era un pacco fondamentalmente ah insomma si è trovato in una situazione scaiola diciamo cioè lei ha votato ma non era consapevole a sua insaputa che è sempre una questione del responsabilizzatore io ho votato ma non è mia responsabilità non è mai responsabilità questo è un tema molto italiano adesso lo prendiamo quindi io penso che andrà così ma guarda che non è proiettivo adesso la finiamo anche perché stiamo provando a fare i futurologi e lo si fa fino a un certo punto certamente non è molto diverso cioè anch'io sono dell'opinione che lui abbia capito che lì se li può masticare quando ho usato l'espressione se li può mungere e poi dovrà decidere ovviamente è una valutazione soggettiva che non c'è più niente da masticare non c'è più niente da mungere li scuta e li scarica loro devo dire offrono continuamente oramai occasioni quindi non è difficile devo dire a questo punto rimane rimane il grande quesito per tornare perché venivamo dalla discussione su perché io credo continui il declino e non ci sia il baratro rimane questo punto di domanda se davvero il signor Salvini ha in mente davvero di perseguire il progetto ideologico di Dugin di questi qua allora potremmo rischiare di trovarci in Italia un regime in cui lui cerca di svolgere fondamentalmente la funzione che Chavez ha svolto in Venezuela cioè raccogliere il popolo attorno al presidente legittimamente eletto ma fondamentalmente autocrata contro l'establishment contro l'elite contro i cristiani il discorso è lo stesso esattamente il discorso Chavez ovviamente poi lo colora diversamente perché qui bisogna far fuori i negri bisogna bastonare i cattivi nigeriani bisogna mettere prima gli italiani è nemico un altro non sono gli americani comunque è nemico bisogna lasciarli morire in mare bisogna alimentare questo bisogno questa bava alla bocca e poi tutte le cretinate le omosessuali le donne senza reggiseno mamma mia è tremendo le donne senza reggiseno e tedesche per di più e magari pure istruite tutte puttane ovviamente tutte puttane si può dire si può dire tutto anche perché era ironico quindi lui può fare un'operazione Chavez se fa l'operazione Chavez in Italia allora il rischio del baratro c'è mi sembra l'unica ragione e devo dire che su questo lascia che te la butti lì io trovo disgustoso il comportamento dell'imprenditoria italiana ok spiegami perché con le dovute eccezioni come al solito ma nel medio ti chiedo perché ma ti chiedo anche un'altra cosa perché qualcuno aveva lasciato una domanda che mi aveva molto incuriosito che era su fare per fermare il declino magari poi ne parliamo dopo ma nello specifico lui che si chiama Matteo Fioretto parlava del fatto che il mondo imprenditoriale e il consenso del mondo imprenditoriale fosse stato a suo dire poi tu mi dirai se è così o no molto importante per la nascita e il sostegno di fare per fermare il declino lui parla addirittura di molto focalizzato fare per fermare il declino al connubio politico economico e il consenso del mondo imprenditoriale come punto chiave di tutto il vostro progetto assolutamente no assolutamente no ma se vuoi poi te lo racconto la storia documentabilissima di fermare il declino proprio perché documentabile ci sono i fatti oggettivi i documenti le date ma no anzi il nostro rapporto col mondo imprenditoriale è stato vicino a zero oh wow vicino a zero ma sai l'imprenditoria privata italiana in particolare è quella di successo diciamo così quella ricca quella che è arrivata no senza fare nomi oppure possiamo anche farli ma insomma è lo stesso anche perché sono cambiate nelle generazioni una volta c'erano i Falk adesso nessuno si ricorda più dei Falk infatti io non so di cosa stai parlando cosa è il Falk se tu vai a Sesto San Giovanni i Falk erano i grandi padroni dell'acciaio italiano ah ok e la famiglia Falk ok cioè adesso a Sesto San Giovanni dove c'erano le acciaglierie Falk c'è il museo dell'acciaio però insomma una volta c'erano i Falk c'erano i Benetton piuttosto che quindi tu parli quello che fa le scarpe marchigiano non mi ricordo più come si chiama della valle della valle eccetera quindi sono cambiate ma costoro tu quindi parli dei grandi imprenditori cioè dei grandi gruppi imprenditoriali non lo so faccio fatica a parlare di grandi imprenditoria di chi ha tre dipendenti ristorante capisci sì certamente è solo per far capire di chi stiamo parlando ma se vuoi anche quelli che ne hanno mille o duemila ce n'è di nuovo dovrei mettermi a fare l'elenco usare dei nomi piuttosto che altri ed è sgradevole soprattutto perché menzioni alcuni e non altri sembra che che loro non valgono esatto o che pure ce l'hai con quelli che menzioni quindi non è quello ma comunque chiunque voglia basta che guardi e trova e trova e trova le imprese costoro hanno avuto storicamente un rapporto purtroppo signorile nel senso del periodo delle signorie quindi tardo medievale con la politica che vanno bene tutti tanto me li compro dopo che è l'atteggiamento che stanno scioccamente avendo quella lega e cioè sono terrorizzati da molto pieno sono assolutamente terrorizzati però l'operazione è teniamoceli buoni adesso sono loro i poteri teniamoceli buoni il vero problema che capì Gramsci è che la classe imprenditoriale italiana non essendo nata contro il potere politico regnante non avendo tagliato teste non essendo insorta non avendo detto noi siamo la borghesia ed esigiamo avere dei diritti signor re e se lei non ce li dà noi le diamo un calcio nel culo e ci facciamo lo Stato noi perché siamo noi che produciamo lavoriamo paghiamo le tasse non lei lei non ha nessun diritto non è mai successo in nessuna fase della storia italiana anzi l'Italia è il piccolo impero di una delle più squali del case regnanti dell'Europa della storia europea i Savori ok e quindi a fronte di questo l'imprenditoria italiana da un lato è nata grazie anche a sussidi prebende eccetera ma quella parte che comunque è riuscita a far bene indipendentemente dalla politica ha avuto sempre con la politica l'atteggiamento del taxi chi è che comanda oggi questo qua lo uso quanto gli do quanto costa eccolo qua glielo do mi fa il favore e io poi scendo tanto poi quando arriva qualcun altro e questo tra l'altro ti dà una grande libertà perché siccome tu non ti esponi mai su un progetto politico non dici mai che tipo di società vuoi non metti mai dei soldi dietro una fondazione che persegua alcuni obiettivi sociali e politici dichiarati buoni o cattivi che siano non importa però ti esponi capisci ti esponi se io io te quell'altro 4, 10, 8 famiglie cominciamo a mettere 5 milioni 10 milioni 30 milioni a testa dietro a questa fondazione o quell'altra che diffonde una certa visione di società X che sono sposti molto americana che è una cosa che ne riguarda caso il mondo che lo sa se ne avviene ma non solo avviene un pochino anche in Spagna ah sì sì in Spagna c'è più di qualche fondazione finanziata da grandi famiglie imprenditoriali che prende posizioni molto la Rafael Del Pino per dire uno con cui ho collaborato prende posizioni molto precise ed esplicite certo si barcamenano non è il modello Cato Institute che è quello che piace a me in un certo senso no non è così frequente da questo lato dell'Atlantico ma li trovi no in Italia zero però ad esempio della Valle adesso non è che voglio parlare della Valle che non lo conosco però lui in qualche caso mi è sembrato abbia preso posizione parlo di qualche tempo fa lui se ne è uscito in alcune occasioni dicendo personalmente battutacce personali in un momento in cui ha accarezzato l'idea col suo amico Montezevo di buttarsi in politica quindi dice era solo fine a un progetto politico personale alla Berlusconi io non ho visto né lui né altri dire investo dono anzi non investo investo se hai una visione di lungo periodo del paese comunque dono per il bene del paese 50 milioni a una fondazione che faccia un'operazione culturale di un certo tipo guarda questa con cui me la sto prendendo recentemente che non ho ben capito chi abbia deciso di finanziare quella fondazione Edison è lì pronta a servire chiunque sia quando era l'ora di Tremonti servì Tremonti quando è stata l'ora di Renzi ha servito Renzi tant'è che il suo direttore ne è diventato consigliere economico e grazie a quello anche consigliere dell'amministrazione della RAI ed oggi è pronta lì a offrire documenti e anche bagianate e falsità a supporto della chiacchiera della chiacchiera sovranista torniamo al punto qual era cioè nella misura in cui non ho una imprenditoria disposta a scegliere un modello culturale di paese il grande problema è proprio quello il grande problema è proprio quello perché bisogna essere realistici su queste cose per riuscire a fare delle operazioni culturali occorrono risorse se io ho un'imprenditoria che sceglie che comunque non ci si mette e che quello che fa è comprarsi il potere di turno è un paese in cui il potere della politica è assoluto fammi far l'avvocato del diavolo però fammi un contrasto su questo punto è il ruolo della grande imprenditoria a fare rivoluzioni rivoluzioni è una brutta parola fare imprimere dei cambiamenti culturali al paese no è il ruolo delle grandi imprenditoria fammi fare il calvinista to give back to give back ok ed è il ruolo dell'elite disegnare provare a disegnare finanziare supportare progetti ottimistici progetti di paese di lungo periodo si lo è perché i paesi li fanno le elite non la cosiddetta massa della gente i paesi le fanno le elite sai delle elite che sono disposti to give back perché alcuni progetti alcune messaggi alcune ricerche alcune campagne sono di lungo periodo quando vedi dei trend di grande cambiamento tecnologico ti rendi conto che vivi in un paese arretrato non è che dalla mattina alla sera riesci a educare gli italiani a fornire gli strumenti per vivere nella società digitale lo sai meglio di me se qualcuno su quello non ci investe non ci investe nessuno quello è un bene pubblico per definizione quello sì da questo punto di vista l'idea per antipatico che a me specialmente sia Bill Gates Bill Gates è uno che gives back a lot è uno che ha fatto una valanga di soldi e anche lì ha detto sono bravo sono intelligente ne ho fatti abbastanza adesso gli lascio fare ai miei amici io mi tolgo fuori e quegli 80 miliardi che valgo li investo su alcuni progetti che io ritengo essere modelli di società io poi sai puoi anche non essere d'accordo con le idee della Bill & Melinda Gates però sei d'accordo col metodo però cavolo è uno che ha detto medicina Africa ricerca vaccini cioè tutto sto cosa chiamiamola con Health Sciences è fondamentale e io butto soldi lì perché vengono beh insomma chapeau è molto importante o no io sono assolutamente d'accordo da noi invece se tu gli vai a dire guarda forse c'è il caso di provare a spingere un po' di presenza indipendente di argomenti indipendenti perché questi raccontano balle cioè c'è poco da fare raccontano balle mettici mezzo milione di euro beh sì adesso vediamo dunque guarda c'ho un appuntamento devo andare a Portofino adesso per scusami c'ho la prima della scala guarda ci sentiamo la settimana prossima ma professore ma lei sa quanto io l'ammiro ma sì ma lei è coraggioso sì grazie rivederla e dice poi finisce tutto lì quindi questa idea che fermare il declino è fantasia io ho sempre un sacco di ma quando dico le cose io sono d'accordo con te ad esempio ma ma fai benissimo è una questione anche di paternalismo cioè ci vedo del paternalismo non so se ce lo vedo un po' in questa idea che debbono essere l'elite a imprimere a imprimere i cambiamenti culturali perché sì storicamente è sempre stato così cioè quando vediamo la storia l'elite sono quelle che fanno la differenza non 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 le masse come le definite tu non mi ricordo come le definite le persone ho anche ironizzato sul termine la gente la gente ver con 2g perfetto ma questo solleva dei problemi partiamo da una mi rendo conto e capisco da dove venga la tua osservazione paternalismo però partiamo da una storia allora recentemente tu conoscerai sicuramente l'autore Harari sì perfetto Harari a me piace molto mi rendo conto anche che sia un personaggio che piace molto a una certa parte di persone certo Barack Obama ne ha parlato bene Bill Gates ne ha parlato bene va bene ok Harari le bei libri eccetera eccetera il suo nuovo libro come si chiama regole per il ventunesimo secolo lezioni per il ventunesimo secolo molto bello il libro più bello che ho letto l'anno scorso è saltato fuori recentemente non so se l'hai saputo che la versione russa ha delle modifiche l'ha adottata per fare la tradurre sì perché io inizialmente ho letto ok sarà stato Putin sarà stato il governo lusso a cambiarlo no l'ha cambiato lui ha cambiato due parti nelle quali una parte cambia l'annessione della Crimea e una parte cambia le bugie che Putin ha detto per giustificare l'annessione della Crimea che poi sono arrivati anche da noi perché noi ci beviamo tutta la propaganda russa in modo incredibile e quindi quando gli è stato fatto notare il suo la sua gente ha risposto dicendo Harari è d'accordo e l'ha fatto perché ha pensato che se non avesse cambiato quelle cose ad esempio la parte della Crimea è stata un po' ammorbidita e la parte di Putin è stata cancellata ed è diventata una critica a Trump sulle varie bugie che ha detto prima vabbè quindi il concetto no non sapevo questo il concetto sì è una notizia il concetto rimaneva però io ho detto lui praticamente dicevo si è giustificato dicendo se non l'avessimo fatto o il libro sarebbe stato censurato o le persone si sarebbero scocciate perché io ho detto questa roba qui non l'avrebbero letto ora ovviamente la parte cattiva di me ha immediatamente pensato vuoi vendere i libri e quindi hai fatto questa cosa qua è ovvio che l'ho pensato ma ho dato per buono che non fosse così per fare un ragionamento e il mio ragionamento è perfetto quindi tu pensi che le tue idee siano così fighe che devono arrivare anche a tutti in Russia è importantissimo che tu ti legga nel tuo libro che ripeto è bello lo stesso consigliato ma non è un atteggiamento molto paternalistico oddio non so se forse è paternalistico forse non è giusta la parola no non è paternalistico no però mi sembra così che sia un inganno cioè tu stai cercando di ingannare le persone perché recentemente sto iniziando a percepire questo problema qui che noi abbiamo un sistema politico adesso capirai dove voglio arrivare abbiamo un sistema politico che premia le balle premia le balle perché gioca abbiamo un sistema culturale che premia le balle ok abbiamo un sistema culturale che che accetta un sistema politico che gli dice le balle no abbiamo lascia meglio di correggere abbiamo una distribuzione dell'informazione e una gestione dell'informazione soprattutto e una cultura diffusa che gradisce sentirsi raccontare balle che ha selezionato in questa maniera una classe politica va bene ok accettabile anche così lo sto facendo più complicata perché è importante capire che il problema è nostro ok a quello ci arriviamo ti assicuro ma io volevo arrivare al punto di come si contrasta questa cosa io ne parlo spesso mi mi confronto spesso con le persone che mi seguono perché sono tutti preoccupati sul fatto che non si può andare avanti così per sempre e il fatto è che sembra che l'unico modo di contrastare il populismo sia altro populismo sia populismo di natura diversa e a me questa storia di Harari mi ha un po' fatto pensare a quello e quello che tu hai detto mi ha un po' fatto pensare a quello al fatto che puoi anche voler dire che sono l'elita in prima di cambiamenti ma se lo dici apertamente non funziona oddio hai capito tutto il discorso si hai messo una quantità gigantesca di carne sulla griglia qua dovremmo farci più di qualche goccio di mirto provo a risponderti sinteticamente cercando anche però di separare alcune delle questioni la questione delle cosiddette elite è molto semplice i paesi praticamente da sempre ma in particolare negli ultimi secoli vanno avanti vanno indietro si evolvono si evolvono a seconda di ciò che le loro popolazioni fanno cosa intendo dire con questo intendo dire che il determinismo geografico di avere le risorse non avere il petrolio non averle per carità è contato nella storia del mondo adesso non andiamo a fare troppo intellettuali ma chi interessa c'è di Diamond è un buon punto di partenza eccetera però da quando nel post medioevo abbiamo cominciato a utilizzare i frutti della nostra conoscenza per organizzare il nostro vivere ciò che conta il 90% non è tanto se hai il petrolio hai il carbone hai l'acciaio o hai il mare la montagna conta quello che gli esseri umani in un certo paese fanno come si organizzano cosa producono come pagano le tasse come non le pagano se si rispettano se non si rispettano se coprano non coprano bene quindi questo è un punto la ricchezza di un paese è la sua gente è il sistema è il sistema è esattamente bravissimo è il sistema cioè come queste persone si organizzano fra di loro e che ruoli si dà questo è il primo punto il secondo punto è che mi sembra fuori di dubbio che le capacità in ogni data popolazione in un altro momento sono diverse e che un paese viene tirato da quel 10 15 20 25% di più capaci dove più capaci vuol dire tante robe non è che devono essere tutti poeti o tutti matematici o tutti fisici o tutti ingegneri o tutti imprenditori o tutti politici tutto quello che vuoi tu sono infatti un complesso di questo perché un paese ha bisogno di tutta quella roba lì e anche del bel cantante del buon cantante della bella cantante del grande attore per carità ha bisogno di tutta quella roba però il paese lo tira quella gente lì e lo tira la relazione di fiducia o di non fiducia che quella gente lì riesce a stabilire con il resto perché anche le persone per essere brutali che hanno un IQ da 70 sono francamente poco utili nella società moderna nel senso di poco capaci di badare a se stesse possono avere un ruolo e sentirse ne partecipi se glielo dai e se c'è un meccanismo di scambio per cui costoro si sentono parte di una roba da cui ricevono qualcosa quindi la capacità delle cosiddette elite le elite si autodeterminano dopodiché per carità le elite anche si autoriproducono non facciamo il discorso troppo complicato ok però le elite sono quelle che tirano e se nel tirare tirano dal lato giusto bom il paese va se tirano dal lato sbagliato il paese non va se per di più crea una situazione di sfiducia in cui non c'è scambio reciproco e operazione con il resto ottieni fenomeni italiani che sono cosa? sono fondamentalmente dei meccanismi un'esplosione di un'enorme sfiducia storica della grande maggioranza della popolazione verso le sue elite avremo bisogno probabilmente di un'altra trasmissione per discutere se questa cosa è fondata non è fondata chi ha sbagliato chi non ha sbagliato quando è cominciata quando non è cominciata come è finita so che a un certo punto tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 sta roba è saltata e una parte grossa di paese ha cominciato a provare forte il risentimento chi era elite ha giocato a prendere per il culo questa è la mia banale teoria di quello che è successo dalla fine degli anni 80 spiega che cosa intendi con una giocata a prendere per il culo invece di avere la capacità di entrare in una relazione con il resto del paese e dire sì abbiamo dei problemi alcune cose dobbiamo cambiare su certe cose siamo iniziati in un paese arretrato su altri ci siamo abituati a troppo comodo a sederci sugli allori siamo troppo statalisti abbiamo un sistema educativo che più di tanto non funziona andrà modificato una serie di visioni che abbiamo di noi stessi del nostro ruolo del mondo sono in realtà sbagliate tipo questa idea che dominava l'Italia negli anni 80 che eravamo i più figli del mondo cioè europei si però allora guarda era come dire era vumpevole era eccessiva faceva ridere cioè della famosa Milano da bere tornavo in Italia per le prime volte mi hanno andato in America da 2-3-4 anni avevo visto un mondo tornavo e c'è si dice no però figo come noi a me non sembra però se a voi sembra ok sì per carità adesso c'è adesso però allora erano proprio convinti c'era questa forma di ebbrezza quasi adesso adesso viene vissuto quello stesso messaggio perché purtroppo viene ripetuto ma viene vissuto con rabbia con un senso quasi di riscatto no riscatto adesso no riscatto no adesso è un mezzo fra rabbia e frustrazione perché sotto sotto c'è la consapevolezza che non è vero quindi si è scoppiata la bolla la gente gira il mondo cioè la gente poi gli aeroporti degli altri paesi li vede l'autostadio degli altri paesi li vede che i propri ragazzi vanno a Londra a Varsavia a Berlino a Parigi a Stoccolma dove diavolo vuoi tu a Pechino io vado a Pechino fra 15 giorni e so ragazzi ci si vede perché so che ti ascoltano organizzate la cena cioè ci sono due o tre comunità di giovani capacissimi allora gli italiani stanno rendendo conto di questo quindi c'è un'incazzatura ma torniamo al punto quell'elite hanno preso in giro e quindi quando dico l'imprenditoria italiana ha delle grosse responsabilità perché c'è poco da fare quando hai i soldi quando hai accumulato quando hai avuto fortuna quando nel giochetto della lotteria del mercato ti è andata bene per carità anche per capacità tua io non sono mica uno di questi che pensa che è tutto culo no no tu non sei qua a essere a Breaking Italy solo per culo perché lo sai fare perché ci metti lavoro perché c'hai le capacità non è che siamo cioè non è solo culo io sono il culo conta però all'80% è olio di gomito ok però bisogna avere anche la capacità che c'è una componente di culo che comunque se tu vuoi mantenere quello che hai costruito devi investire nel sistema sociale in cui vivi e la grandissima responsabilità delle elite imperiali italiane è che questo non l'hanno fatto mai e non lo stanno facendo neanche adesso adesso dove sarebbe assolutamente essenziale perché perché adesso le non elite chiamiamole così sono incazzate nero cioè la ragione per cui 5 stelle e Salvini hanno vinto è perché le non elite sono incazzate nero ok e quello ce l'abbiamo ma guarda che occorre cominciare a chiedersi perché lo sono perché hanno una parte anche di ragione senz'altro senz'altro però io volevo giusto capire una cosa del tuo ragionamento perché è abbastanza non è facile però è abbastanza scontato dire ok è un problema dell'elite sono state le elite italiane che hanno fatto questo e quello ma le le elite italiane cioè cosa hanno le elite italiane che non hanno le elite degli altri posti perché se noi senso dello stato e senso della società quindi è sempre una questione culturale certo è un problema che si autoalimenta assolutamente un problema antico dell'Italia che è rimasta culturalmente alle signorie del 5600 in cui il potere politico è una cosa da cui ricevi le prebende e i favori che devi comprarti e corrompere in cui la stratificazione sociale è sostanziale in cui c'è pochissima mobilità sociale e non ci credono io ti abbiamo appena detto sì il culo conta sono sicuro che moltissimi hanno detto cazzo è tutto culo oppure è tutto dovuto al fatto che il papà la mamma lo zio è molto quello sicuramente ha soldi ma è vero questo è un paese dove purtroppo questo elemento ha contato moltissimo però non è vero che è l'unico cioè quando io pensavo venendo qua all'esperienza mia io ho 63 anni in alto il 56 se penso alla mia classe del liceo 22 persone eravamo all'ultima sezione morti di fame tieni conto che sono stato al liceo che era il 70 quindi era ancora una cosa e noi eravamo tutti quelli della provincia o della periferia della città di Venezia ok poi arrivò in terza l'unico appartenente all'elite cittadina che si inserì perfettamente ma l'unico tutti gli altri erano figli di operai contadini piccola borghesia al meglio c'erano due tecnici di fabbrica ci sono i normali ci sono i normali quella è stata forse ed era ed era come siamo stati la nostra generazione e quelle attorno a noi insomma quei gruppi di anni tra i nati nel 50 e i nati nel 60 i beneficiati dalla fase positiva del miracolo industriale e dal fatto che si era messo in moto il processo di mobilità sociale infatti noi classe praticamente 70% laureati fra cui una serie notevole di successi professionali senza stare a farle l'elenco se per caso ci ascolto i miei amici e dicono oh potrei Michele questa è questa roba ma non sta a parlare con gli altri ti ricordo che noi siamo ancora con il gruppo Whatsapp ci scambiamo 63 anni ci scambiamo i ricordi gli auguri le analisi politiche eccetera però poi non è più successo quindi in Italia c'è stata una fase c'è stata una fase io credo ma brevissima in cui la fase virtuosa che conseguiva il miracolo economico che aveva immesso in moto mobilità sociale però si è interrotta perché perché lì l'Italia arrivava in ritardo cioè i meccanismi le istituzioni il sistema di istituzione il sistema economico anche il sistema di rapporti che avevamo che aveva funzionato abbastanza bene era però ancora quello vecchio e il mondo nel frattempo che era più avanti di noi negli anni 70 80 comincia radicalmente a cambiare e noi facciamo fin che non ci riguardi e di lì capisci di nuovo l'elite lo sapevano non lo poteva sapere mio padre che faceva l'opera di fabbrica questa cosa qua c'era necessità che l'intellettuale italiano che il dottore che il politico glielo spiegasse o perlomeno che la terapia trasmettesse quell'informazione sul mondo necessaria per capire che i processi produttivi la distribuzione del commercio le cose da apprendere o non apprendere l'utilizzo della scienza nella produzione stavano cambiando e che quindi essere dei bravi artigiani non sarebbe bastato più capisci? vabbè mi fermo perché adesso sto pensando perché la fascinazione molto presto gli italiani scopriranno che la loro convinzione che noi siamo i più bei designer dei bravi designer del mondo il sistema della moda è in mano nostra e di chi noi abbiamo la creatività è stata vera ma è finita perché l'intelligenza artificiale oggi sa disegnare vestiti e mettere in moto la catena di montaggio chiamiamo della produzione del vestito di moda tanto quanto Giorgio Armani o quasi quanto Giorgio Armani era un genio che l'ho apprezzato enormemente e che quindi il nostro non essere stati capaci di entrare lì di esserci rimasti con l'idea che siccome avevamo Giorgio Armani genio vero senza dubbio alcuno che però ha 80 e passa anni e non ce n'è un altro Armani mentre è strapieno di cinesi giapponesi ma anche lussemburghesi anche irlandesi anche americani che con artificial intelligence computing software design mio figlio che è mezzo italiano e mezzo americano che si sta a Los Angeles disegna e anche bene da quello che capisco fa l'architetto più o meno le tatuole 84 84 perfetto uguale settembre 84 lui fa anche progetti notevoli e tutto artificial intelligence e computer driven su quella frontiera c'è qualcuno in Italia che lo fa sì ma sono eccezioni sono eccellenze il sistema overall non c'è quando scopriremo che anche il sistema della moda fra dieci anni c'è scappato di mano diremo ah ok capisci sì e quindi quello che sto dicendo la responsabilità perché il paese capisca questo dipende e tu lo fai perché io sono accettato di venire perché ho visto quello che racconti sono andato a guardarmi dopo che mai che ci siamo parlati alla gente bisogna raccontare i fatti allora sì però parlando di me un attimo anche se a me non piace tantissimo parlare di quello che faccio ma più che altro di quello che pensano gli ospiti però il punto è questo che lo dicevo anche a telecamere spente forse prima è che io raggiungo tante persone ma una quantità non troppo diversa di persone infatti ti dicevo raggiungo molte persone che sono all'estero proprio perché noi abbiamo questo problema delle persone che vanno via infatti lo dico spesso siete tutti in giro tranne me sono l'unico in Italia eccetera va bene ragazzi dai invitiamolo facciamogli fare un tour esatto facciamo un club lo creo io facciamo un club degli amici di shy gli facciamo fare un giretto dell'America il punto è questo io ho un po' superato questo gap diciamo tramite la mia personalità e il modo con il quale promuovo le cose anche perché io non promuovo idee politiche io ho sempre promosso una questione di metodo di approccio critico alle cose tipo non è che se leggete una cosa quella è andate a vedervi le fonti imparate a discernere cosa ha senso e cosa non ha senso se leggete che Putin ha invaso la Crimea o che non l'ha invasa ragionate sul perché lui avrebbe interesse a fare questa cosa o perché avrebbe interesse a minare l'Unione Europea cioè faccio sempre un discorso di metodo certo perfetto ciò nonostante non alcune persone non le raggiungo è proprio impossibile ci sono dei muri che non posso abbattere certo si creano dell'eco chamber quindi questo problema come si supera non lo so appunto questo problema che mi pongo l'anno prossimo fra tre anni a me adesso interessa e sono contentissimo di averte riconosciuto e di nuovo anch'io non sono uno molto prono alle piagerie perché io credo che noi dobbiamo rally the truth capisci cioè noi dobbiamo convincere quella e la domanda adesso io la faccio a te secondo te quel 40% che non vota che cazzo vogliono comunque noi tu io e tanti altri anche se abbiamo opinioni diverse ma che seguono quel metodo e cioè i fatti verificare le cose non credere a priori chiedersi sempre ma c'è una logica c'è un'evidenza corroborata la scienza cosa dice quanti esperti sono d'accordo ma è forte l'opinione degli esperti o è tinta ideologicamente ci sono dei dati veri che io posso capire che mi facciano credere che A è molto più probabile di B questo è il metodo tutti mi chiedono ma tu sei liberista io sono un pifero io sono mi chiedo cos'è che funziona cos'è che sta succedendo certo poi ci sono dei valori ma i valori in un certo senso sono da un lato banali perché uno li prende io li prendo seriamente però sono banali da dire uno vuole essere onesto nel senso di non dire le bugie uno non vuole rubare uno vuole far violenza agli altri capisci non è particolarmente originale che io abbia questi valori qua non so non mi ritengo San Francesco d'Assisi e invece il problema per far capire è che a volte bisogna avere il coraggio il coraggio intellettuale di accettare la realtà dei fatti smetterla di farsi le seghe mentali le fantasie il liceo classico ma Pascoli le pippe ecco io credo che nella misura in cui si riesce a rally the truth di quella percentuale di italiani che ha la capacità intellettuale e morale di riuscire a stare ai fatti poi poi ci si potrà il problema porre il problema di parlare a quegli altri di uscire dall'eco chamber io guardo un eco chamber di 5 milioni di persone non è niente male il tuo obiettivo dovrebbe essere avere 5 milioni di ascoltatori sono molti 5 milioni lo so sto scherzando però nel senso Alessandro che se io mi guardo attorno e cerco di capire guardo gli atteggiamenti vari campioni su 50 milioni italiani che hanno diritto al voto ce n'è 5 tra i 5 e i 10 milioni che cercano che un approccio appunto pragmatico onesto franco non ideologizzato legato a quei 3 4 valori banali che ho detto prima e che sono disposti a fare i conti con i fatti se riesci a mettere assieme cioè il giorno che hai quelli che ti ascoltano allora poi puoi togli il problema e dici vabbè vediamo se una variante 2 di Breaking Italy Breaking Italy tu poi lo riesci a parlare anche chi in questo momento crede davvero che siano i 4 disgraziati affogati nel canale di Sicilia quelli che vengono a togliere il lavoro o che crede davvero che bisogna bastonarli solo perché sono negli quindi tu parli fondamentalmente di raggiungere una massa critica di persone che poi fondamentalmente spinga perché poi funziona sempre così è una massa critica in politica ma no ma anche nei movimenti culturali e sociali il problema vero in Italia oggi quelle persone sono allo sbando isolate alcuni hanno creduto scioccamente in Renzi altri hanno creduto in altre cose altri si beano di dire sono liberali molti hanno perso la fiducia lo dicevamo all'inizio molti anche amici tuoi amici miei ho detto ma basta non la posso più vado via mi dedico alla mia famiglia e basta non chiudo chiudo ecco quelle sono le elite in realtà che si tirano indietro dal gioco ma sì perché sai nessuno appunto è San Francesco nessuno è disposto a immolarsi cioè in battaglie perse dici ok che perciugisce come tali sì Sandro Brusco io appunto ci dividiamo adesso non voglio cioè Sandro Sandro povero Sandro non lo voglio tirare in mezzo quindi parlo per me stesso io ho anche una condizione relativamente privilegiata a me la vita è andata bene ho un'università che mi ama mi sono anche stancato di scrivere paper tecnici ho lì delle cose che vorrei finire di scrivere come dire popolari sono tranquillissimo ho uno status accademico mondiale protetto cioè alla fine posso permettermi di dedicarmi a un'operazione di contaminazione culturale che funziona con la mia personalità mi piace provocare mi piace la discussione franca e dura non mi piacciono i salamelecchi preferisco le persone tutto di un pezzo ma una cosa mia caratteriale non è obbligatorio essere come me io sto con quelli che mi piacciono ok quindi non è che tutti devono fare il Boldrin o il Manfredi che è molto coraggioso oppure anche Thomas è uno che rischia di più e beh sì è più giovane lavora in un'agenzia che alla fine ha una base politica perché l'OECD cioè non è una non è completamente indipendente eh no dai rumori politici assolutamente cioè chi dirige l'OECD è di nomina politica ma ti immagini quindi se c'è uno più coraggioso è Thomas che è più coraggioso di me ma anche adesso parlo dei quattro in cui stiamo facendo le cose adesso cioè noi di noi siamo America eravamo alla fine dei privilegiati cioè eravamo tutti con tenure tieni conto che avere tenure in un'università privata di prestigio americana cioè davvero devi non lo so quale crimine tu debba compiere perché ti licenziano è una cosa che non si raggiunge facilmente però una volta che l'hai raggiunta wow cioè sei molto protetto quindi puoi anche permetterti di esercitare la tua libertà hai pagato dei prezzi prima hai lavorato duro prima ce l'avevi in mente lo fai chi ha una condizione lavorativa diversa deve esporsi anche meno è anche legittimo che lo faccia io sono non amo gli eroi che si suicidano sì perché non esistono cioè sono pochi ma a volte esistono poveri ma poi gli vogliamo anche bene ci facciamo i film ma però ormai è andata non aiutano molto però ecco io credo che ridare fiducia all'Italia ottimistica e questo facciamo dire un'altra cosa questa Italia qua l'Italia ottimistica che è una cosa che ho notato conoscendovi conoscendo questi anni che sono venuti in Italia le persone che hanno un punto di vista più o meno sì ma poi io e te non è che coincidiamo su tutto sono in realtà degli ottimisti cioè i Salvini sono dei pessimisti è gente sfigata ti rendi conto che sono pessimisti? sì allora l'idea che loro promulgano è pessimista l'Italia è in pericolo dobbiamo rifarci al passato il passato i grandi fastidi al passato che non esistono tutte queste idee quindi sì in un certo senso è pessimistica è più che altro decadente è un'idea decadente però sì ma c'è anche proprio l'idea che non abbiamo la capacità di competere con i cinesi per dire che non abbiamo la capacità di giocare alla pari con i tedeschi perché loro hanno cosa meglio di noi allora lascia che ti dica questo Renzi non era così però tu sei molto critico di Renzi fammi aprire questa parentesi vai 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 non era in programma però adesso mi è venuta la curiosità qual è Renzi non era così non era così vittimistico ho avuto questa impressione un periodo che lui allora apro una seconda parentesi tenendo conto del fatto giustissimo che Renzi era la variante di sinistra di Berlusconi che pensi me ok perfetto allora non devo neanche aprire la parentesi perché Berlusconi a me ricorda questa cosa del sole in tasca tra l'altro il sole in tasca gli italiani con il sole in tasca la sinistra invece è sfigata si guarda lo specchio ed è brutta però non è così pessimistica nel proporsi ma è no è una balla tu sei d'accordo che Berlusconi raccontava balle sì no perché io mi ricordo tutti raccontano balle è una cosa no no ma c'è balle balla sì c'è balle balla cioè Trump pure racconta balle ma posso dirlo racconta meno balle di Berlusconi perché alla fine Trump le cose che ha promesso di fare ha provato a farla sì Trump racconta balle sui meccanismi causa effetto sì Trump racconta balle sul fatto che lui non odi gli afroamericani negri come tu vuoi o gli altri che lui non sia razzista cioè non racconta balle sui sentimenti interni sulle sue motivazioni ma le sue promesse Trump racconta balle sulla fondamentalmente la causazione e cioè da un lato racconta una balla che l'America in crisi non lo è per niente ma su quello devo dire gli hanno dato gli sono stati i migliori alleati di Trump gli intellettuali sinistra Paul Krugman per primo Paul Krugman e Joe Stiglitz gliel'ho detto gliel'ho ridetto e sono anni che non li vedo appena ci sbatto addosso mi sa che quest'anno vado ai meetings solo per andare a dire sia a Paul che a Joe è anche colpa vostra avete rotto perché hanno predicato dal 2008 in avanti che il sistema era in crisi che il system is broken che l'America era un disastro che non andava mai bene niente che non andava mai niente bisognava fare più spesa pubblica i poveri qua e là su e giù per carità tutti i problemi ci sono però esagerando creando questa atmosfera da un paese che crolla che io mi ricordo la campagna elettorale del 16 ero lì che dicevo ma com'è che gli stanno passando tutti a sto qua make America great again for Christ's sake come se fossimo disperati che già allora avevamo la disoccupazione ai minimi storici lo stock market che andava la crescita della produttività i salari che si muoverono cioè da dove è venuta sta fantasia e lui è stato bravissimo geniale a prendere quella roba lì e a trasformarla però non ha raccontato le balle alla Berlusconi e alla Renzi perché le cose che ha detto che voleva fare le ha provate a fare tutte alcuni sono andati storti il muro non gli era lasciato a fare ma quello è pazzo a sufficienza che se gli davano i soldi lui il muro lo faceva i casini con la Corea del Nord è andato a piantarli non ha cavato un ragno dal buco poi l'han tirato per la giacchetta e ha detto faccia finta di aver vinto dichiari vittoria e torni a casa perché sennò qua è un casino ok cioè voglio dire però allora a questo punto anche Salvini ha fatto la stessa cosa eh no perché Salvini non ha fatto nessuna delle politiche che ha dichiarato di fare Salvini ha detto quando è uscito all'euro no aspetta calma esattamente come Trump ha tutto un sistema che lo tiene fermo anche Salvini ipotizzando che le cose tornando al discorso di ma le voglia fare c'è un sistema che lo tiene un attimo a bada ma ad esempio il discorso su la legittima difesa per dire no che è la stranzata più grande del mondo ok crei il problema che non esiste sono d'accordo bravissimo no hai ragione hai ragione sì sì no Salvini sulle cose violente ha fatto quello che ha detto di fare e lo sta facendo anzi continua a farlo anche quando non c'è necessario sta lasciando morire intenzionalmente centinaia di persone in mare perché vuole testare lo stomaco di chi vota per lui che è la ragione per cui noi dobbiamo rally the troops di quelli che lo stomaco per digerire gli ammazzati da noi in mare non ce l'hanno perché lui ha testato quel pezzo di Italia che gli va dietro a quel pezzo di Italia con la bava alla bocca ieri ha commentato ottimo buon appetito ai pesci l'ho visto ecco quell'Italia di merda lì è tempo di sputarli in faccia e io lo faccio personalmente cioè no letteralmente cioè al ristorante se sento quello vicino che dice cose del genere mi alzo e o chiedo di andarmi o gliene vado a dire quattro ah sì oh sì no no perché non esiste non esiste e occorre dire a quell'Italia decente che secondo me c'è e su questo terreno è la maggioranza su questo terreno continuo a pensare che noi siamo la maggioranza cioè di quelli che cosa te lo fa pensare è una speranza no 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 la sensazione la reazione della gente il parlarne quotidianamente che hanno si vergognano di dirlo cioè adesso la gente si vergogna è diventato si è rovesciato questo meccanismo del politically correct un tempo era che so dire cazzo però i negri lavorano meno di noi che è anche vero per mille ragioni che è senso per mille ragioni culturali chi viene da paesi sottosviluppati abituato a ritmi di vita agricoli bla 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 a comportamenti sul lavoro meno efficienti meno proni alla fatica alla regolarità di chi ci è abituato mi ricordo il mio suocero milanese appunto della fal che veniva a fare il dirigente di fabbrica Marghera diceva che i veneti non lavorano sono veramente anni mi raccontava cioè l'ex suocero che trovava i veneti dei pelandroni tremendi rispetto allo standard dell'operario di Sesto San Giovanni perché ci sono pattern di adattamento cioè non è una cosa ranziale no 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 lo so che non è sto cercando di capire quindi no vabbè non stava fatto sì i meccanismi della regolarità della puntualità sul luogo di lavoro sono fondamentali guarda adesso andiamo su un altro argomento però che ho anche studiato molto che è per chi la manifattura cinese di precisione ha raggiunto livelli di produttività altissima così rapidamente mentre quella messicana no nonostante le tecnologie fossero le stesse gli investimenti fossero gli stessi e in Messico fosse cominciato molto prima ci sono gli elementi culturali ci sono gli elementi culturali di attitudine al lavoro alla regolarità alla precisione che variano e non è che li cambi dalla mattina alla sera non li cambi dalla mattina quindi torniamo al sistema adesso mi sono mi sono perso torniamo a quello che dicevamo si hai ragione Salvini sulla parte della violenza sulla parte su cui ha costruito la sua fortuna che è dare libero sfogo legittimare come dire la violenza la violenza di chi si sente italiano e villipeso contro gli altri queste cose che avvenire che pochi riportano le sassate le continue aggressioni all'extracomunitario specialmente se nero cominciano a essere diffusissime in Italia e pochissimi organi di stampa ne parlano praticamente solo la chiesa cattolica e i suoi organi ne parlano in maniera sistemata questa paura della reazione delle persone che invece sono vedo che è diventato vietato in certi ambienti dire no però quel disgraziato sarà anche nero ma no è un disgraziato povero cioè taglia una mano io per invece sono dell'opinione che quando li prendi privatamente per tornare alla questione dei morti che la maggioranza sia ancora disposta che dentro che dentro la maggioranza degli italiani si vergogni per i ragazzi morti annegati in mare certo che occorre dargli la fiducia di poterlo dire oggi come oggi praticamente la gente ha paura di dirlo ti rendi conto ok e quindi se sono tornando alle balle perché siamo partiti da lì Renzi quindi perché non andava bene chiudiamo la parentesi perché beh l'hai detto tu l'hai visto voglio che lo dica tu ha fatto il Berlusconi di sinistra ha fatto il Berlusconi di sinistra cioè l'ottimismo non deve essere una roba vuota l'ottimismo come diceva quell'altro da cui Renzi avrebbe dovuto apprendere il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà eh Renzi ha fatto quindi tu dici che c'era una cosa ma non c'era l'altra lui non raccontava agli italiani che c'erano i problemi lui diceva anche lui ha fatto bah siamo bravissimi è tutta colpa adesso vado a battere in pugno a Bruxelles adesso spacco tutto adesso faccio la riforma istituzionale o risolvo tutto ma come risolvi ma di le robe vere mona ma di le robe vere certo dagli ottimismo alla gente ma di le robe vere di quello che devi fare cioè lui si è inventato notoriamente io non ho molta simpatia per la CGL capisci sì ma l'unica roba negativa in Italia a sentire lui sembrava essere la CGL ma andasse eh ah dici che è l'unico problema in Italia si era inventato una roba craxiana cioè anche Craxi costruì la sua pseudo fortuna inventandosi la CGL nemico del popolo sulla scala mobile ma tra di tutto sulla scala mobile aveva pure ragione Craxi contava pochissimo però un pochino contava Renzi ha passato due anni e mezzo a fare la guerra alla CGL per carità io CGL a sberle però se è un pagliaccio se racconti agli italiani che va tutto bene non fosse per la CGL e non fosse per la comunità europea perché il messaggio il messaggio varenziano era guardate va tutto bene però ci sono tre problemi la comunità europea che non mi lascia spendere la CGL che non mi lascia fare il Jobs Act e aspetta insomma qual è il terzo non so scuola dopo un attimo quindi è sempre un discorso di responsabilizzazione ha perfettamente ha responsabilizzato tutto e invece non è andato a ragionare ha detto agli italiani guardate che abbiamo un sistema scolastico primitivo che va rifatto da cima a fondo no ha fatto la buona scuola come se il problema per carità certo c'è anche quello ma se il problema fosse spostare un po' di professori poi se l'è messa via subito appena si è così ha parlato di piccole e medie imprese no ha lasciato a calenda a far chiacchiere sulla politica industriale ha parlato seriamente del sistema pensionistico no ma il sistema pensionistico è un disastro ma anche pre quota 100 Elsa aveva iniziato un processo di riforma ma il processo di riforma andava profondizzato lui non ha avuto il coraggio di dire ai italiani guardate che comunque anche post fornero voi signori che avete più di 15 anni di pensione e avete che so 70 anni o 73 state rubando il pane ai vostri figli e nipoti avevo dovuto dirlo quindi il problema di Renzi qual è stato quello che ha avvenuto un ottimismo in facciata del tutto analogo a quello di Berlusconi si è pasciuto su questo invece di imbarcare gente capace questo è un altro punto che è il punto che gli si dice spesso del giglio magico che ha tirato Bergent stessa cosa di Berlusconi Berlusconi aveva un obiettivo che era mettere a posto le sue aziende e salvare se stesso dalle mille ruberie dalle mille evasioni fiscali e a questo si dedicò ok Renzi non so francamente e più ci penso più mi sembra un suicidio a Cotirivo e loro ho un segreto sai a chi Sandro Brusco e Michele Boldrin per primo proposero fermare il declino a chi? a Matteo Renzi ok come è successo allora visto che volevi parlare di quello ti porto io lì perché ce lo inventammo in realtà nacque in un dibattito tutto interno a questo blog e chi voglia andare a leggere se lo trova se voi leggete nel 2011 litigiamo diciamo per modo di dire discutiamo sulla possibilità o meno che in Italia esista un pezzo di società civile di classe media di elite di professioni eccetera disposto a accettare la verità e a mettere in moto un movimento politico che tocchi quei 7, 8, 10 poi lo riassumiamo in 10 per ragioni pratiche questioni nodali storiche che vanno cambiate se vogliamo essere di nuovo un paese che tira nel mondo che cresce che gioca in serie anche fra 10 20, 30, 50 anni quello era fondamentalmente e ovviamente come sempre eravamo divisi in due campi quello che diceva ma no quelli che avevano già abbandonato ok già nel 2011 non li nomino ok ma no ma la solita banda ma no ma non è vero ma non vedi non c'è nessuno ne vuol sapere niente è una follia perché te credi accontentiamoci almeno peggio eccetera eccetera e altri dicono no però insomma almeno l'esperimento si potrebbe fare secondo me la lava la fa Sandro Brusco io una notte in una cena new yorkina decidemmo di provarci a seguito la famosa battuta si è mai detto che mi perdo una causa persa e organizziamo per testare le acque un convegno che chiunque giri su facebook si vede non potete vedere cosa c'è scritto ma vedrete che c'è un gruppo che si chiama non importa il colore del gatto ciò che conta che mangi il colore te lo ricordo che ha una foto del carissimo Marco Ardemagni che entra alla biblioteca del senato come presentazione in cui invitiamo una ventina di personaggi non farò i nomi italiani visibili per sondare cosa girava quindi ma Renzi era molto giovane era l'undici non invitiamo Renzi perché era sindaco ancora e lavoriamo su ste ipotesi e l'ipotesi che divenne coltivando la Sandro e poi altri era vabbè facciamo un manifesto diciamo quali sono le cose a fare già in realtà e poi chiediamo la classe politica ci rivolgiamo alla classe politica dicendo qualcuno deve pure avere il coraggio di prendere questa bandiera in mano e portarla avanti queste sono le cose da fare nei prossimi dieci anni ci vogliono due legislature ma vanno fatte e così facendo dopo quel febbraio io avevo incontrato Renzi per caso credo a quella trasmissione televisiva che conduceva Floris Ballarò Ballarò bravo ci eravamo scambiati due chiacchi lasciamo stare e avevo il suo numero quindi lo chiamai e lo chiamammo e ci parlamo svariate volte dicendogli guarda facciamo questa cosa e la sua risposta alla fine fu no venita con me nel PD la nostra risposta grazie la mia in particolare ma anche Sandro era grazie abbiamo già dato come si chiamavano un altro nome e tanti tanti anni fa e lasciamo stare quindi poi come uscì l'offerta Giannino uscì dopo una serie di altre circostanze eccetera ma la nostra idea era quella rimane in un certo senso la mia idea rimane solo che oggi in quel momento Renzi aveva una immagine positiva ne so che era uno che era stato capace poi purtroppo si rivelò essere pura propaganda interna era stato capace di puntare il dito su alcuni problemi che il PD aveva sulla retratezza del paese sulla necessità di rottamare certe modi di fare politica eccetera quello lo fece vincere fu quella esattamente quindi lui vinse su una capacità di rottura e di cambiamento che immediatamente tradì rivelando purtroppo la povertà forse intellettuale o su esso non voglio non lo conosco abbastanza per poter giudicare per poter valutare cosa l'abbia portato a fare quelle scelte orrende ma ha fatto delle scelte obiettivamente orrende e ti dirò di più lo dicevo io credo che la fretta terribile con cui pugnalò letta gli sia stata fatale ma anche io lo credo ma è peggio ancora credo che quella fretta fosse stata motivata proprio da un intento propagandistico perché lui si rendeva conto che alla fine del 2013 inizio 14 un qualche rimbalzo dell'economia italiana era obbligatorio perché l'economia italiana aveva preso una tale botta gigantesca tra l'11 e il 13 che un pochino doveva risollevarsi che doveva rimbalzarsi e l'ansia di andare al governo a mio avviso fu motivata anche oltre da aspetti probabilmente suoi caratteriali ti ripeto non lo conosco abbastanza per poter giudicare anche proprio dal calcolo di appena c'è la ripresa diventerà merito mio e infatti lui ha cercato disperatamente di vendersela come a merito suo anche se è ovvio a chiunque capisca l'economia che non è merito suo non c'è nessun merito come non c'è nessun demerito sia chiaro di questo governo nell'alentamento mi dispiace io l'ho detto subito le tendenze di lungo periodo quelle sono Renzi ha fatto pochissime riforme quindi pochissimo di buono perfetta continuità è una linea perfetta 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 ok certo questi hanno in mente di fare dei disastri peggiori di quelli che avevano in mente quelli precedenti senz'altro il reddito di cittadinanza è orrendo rispetto a quello che c'era prima senz'altro questa follia della flat tax è ancora peggio degli 80 euro ma io avevo criticato anche gli 80 euro cioè è una gara ho capito che ci sono i teorici del meno peggio qui adesso diranno visto Boldrin gli 80 euro sono meno peggio della flat tax però davvero cioè mi taglio la gamba a destra o me le taglio tutte e due beh il fatto il problema sai cos'è è che è molto interessante sentire questo tuo modo di ragionare sulle cose ma manca sempre la questione del come puoi attuarle in modo che siano spendibili e vendibili no non è compito mio ah ecco non sono i segretari di un partito perché fare per fermare il declino non ha funzionato allora fare per fermare il declino allora fare per fermare il declino stava funzionando la ragione per cui non ha funzionato la sappiamo benissimo ed è solo quella qual è? beh purtroppo Oscar e chi gli stava attorno che l'ha mal consigliato in quei mesi ha fatto un errore avrebbe dovuto avrebbe dovuto lo dico con totale tranquillità dopo tutti questi anni avrebbe dovuto e lui sa che gli è stato afferto che Boldrin io quelle cose tra l'altro non le sapevo ma c'erano altre che avevo subdorato stiamo parlando le cose famose della laurea la laurea che non c'era la laurea che non c'era il master che non c'era le doppie tutte queste cose che poi uscirono le ho distrusse gli era stato consigliato nel senso che qualcuno gli ha detto di millantare no gli era stato consigliato lui lo sa gli avevo detto no insisto lui lo sa perché devo dire delle cose me le tolgo dal petto però voglio anche che sia chiaro che ci sono state dette non sto pugnalando nessuno alle spalle non è il mio stile a un certo punto mi ero reso conto che nei suoi comportamenti io e Sandro ci erano resi conto che nei suoi comportamenti nella sua gestione delle cose c'era qualcosa che non andava e francamente io non mi immaginavo proprio questa roba del CV perché ti dirò la verità non sono neanche andato a guardarlo il CV non mi sono nemmeno posto il problema perché dopo 30 anni di America non ti puoi neanche lontanamente immaginare che uno che ha fatto il direttore di due giornali o uno economic che era il ghost writer della presidenza della confidazione eccetera potresti avere un CV dove c'erano le bugie non mi passa neanche per l'anticamera del cervello io lo scoprì la notte di quel giovedì tarda notte tra giovedì e giovedì quando Luigi Zingale lo scoprì per un email del suo register a Bolt che gli diceva professore abbiamo due giornalisti italiani che da ieri ci stanno massacrando su questo qua io ho guardato apri tutto ho guardato chiesto qua vedo che lei ci sta facendo politica in Italia assieme e ci sono scritte queste cose e questo non appare quindi cosa vuole che faccia Luigi mi disse c'era qualche giornalista che si era messo no che avevano ha fatto richiesta a booth alla scuola di business dicendo beh sto qua avete dei records ha fatto dei corsi questo signore che cosa risultò che non era e Luigi anche Luigi cioè con cui poi io ho litigato per altre ragioni ma non importa su questo fu trasparente me la mandò immediatamente dice che cazzo ne sai qualcosa ma assolutamente niente dice sai ho guardato dice ti rendi conto avrei potuto guardare questo dice che c'è il master in corporate in public finance dalla booth non esiste nemmeno quindi bastava che lo guardassimo e avremmo detto impossibile perché questa roba non esiste booth da solo MBA non solo ma non esiste il master in corporate in public finance o ce l'ha in corporate o ce l'ha in public finance o ce l'ha in corporate finance o ce l'ha in public finance fare di pullaster ok quindi quella roba lì è successo allora il punto è che lui e non voglio ferire a me ha dato molto fastidio questa roba che gli è successo recentemente spero che quelle cose che ci diciamo adesso non vengano prese come maramaldeggiare perché non intendono esserlo sono solo un chiarimento storico lui e chi soprattutto chi gli è stato vicino e l'ho consigliato e l'ha mal consigliato i veri responsabili sono le persone che gli hanno consigliato di comportarsi così ha avuto un comportamento perché aveva uno stile suo di fare le cose che era ambiguo noi ci eravamo resi conto ci sono delle ambiguità come clean come clean come clean non è successo e a un certo punto ho detto va bene qui c'ho la scelta della dicembre del 12 c'ho la scelta fra pull the plug e dire vai affanculo affanculo tutto oppure mi viene di nuovo in inglese buy the bullet a tenere duro perché comunque ormai sta roba è diventata più grande di noi migliaia di persone non si può deludere la gente ci hanno parlato Sandro io ho detto senti assumiamoci il rischio andiamo avanti c'è qua puzza e bruciato a destra manca ma in realtà aveva niente a che fare con le lauree c'era questo mundiglio pseudo liberale italiano che si era infilato che cercava di appropriarsi cose anche sgradevoli che non vale neanche la pena discutere non lasciamo stare sono prontissimo ovviamente a documentarle se necessario ma preferisco non menzionarle sta roba va male però com'è va se riusciamo a a mandare della gente in Parlamento poi faremo i chiaramenti e chiarimenti e se la roba è grave tu e io ci togliamo e fine morta lì nessuno dei due ti immagino non c'erano candidati nessuno dei due apposta tu parli di te e di Sandro Bosco e anche Andrea Moro eravamo i tre che avevano iniziato la cosa quindi noi non avevamo particolare nessuna ambizione politica tutti volevamo tornare al nostro lavoro accademico però non sarebbe stato nessun problema ci hanno detto aiutiamo se va va poi cercheremo di chiarire e eliminare le zone grigie se non si eliminano arrivederci ragazzi buona fortuna noi abbiamo dato poi invece uscì quest'altra storia come io credo che lui consapevole ma credo che lui adesso sia consapevole di aver fatto questo grande errore di aver ascoltato le persone sbagliate mi pare impossibile che non lo capisca lui avrebbe semplicemente dovuto al momento in cui ha accettato di fare il candidato primo ministro dire guardate io sono una persona fatto così per mille ragioni ho fatto questi errori ho raccontato queste balle nessuna delle quali grave sono capaci perché è capace estremamente capace tu forse puoi pensare anche meglio di me io lo apprezzo tanto come a me dispiace tanto che sia stato allontanato da Radio 24 quindi tu credi che se non ci fosse stato questo scandalo fare per fermare il declino avrebbe raggiunto avrebbe superato la soglia di sbarramento assolutamente di quanto? un punto due ah ok io mi piazzavo fra i 4 e 6 perché mi ricordo le stazioni i polsi dà un'enorme variabilità tipico di una cosa che era appena esplosa come giustamente mi fecero osservare alcuni a cui chiese guarda è impossibile perché di fatto voi eravate un fenomeno di nicchia fino a fine gennaio siete arrivati nelle news della gente da due settimane tre per cui a seconda del poll avete valori molto diversi è impossibile stimarvi però se io considero le piazze la gente la quantità di persone che venivano alle cose insomma nessuno riempiva letteralmente le piazze cose come noi in quel febbraio prima dell'evento e poi lo vedo cioè l'ho visto dalle decine di migliaia di email che sono arrivate e hanno bloccato il serve della mia università dopo l'evento in India erano tutti incazzati erano arrabbiati con lui con tutta gente che diceva un voto cioè un numero veramente enorme e anche avessimo fatto il 3 eventi tanto per dire comunque era una realtà che si sarebbe creata nel giro di sei mesi per l'iniziativa di sei persone senza un soldo senza un appoggio su un messaggio che più specie di così si muore c'era ma comunque è inutile rimbangare anche quella però è una prova diciamo era un test e mostrava che un pezzo di società civile disposta a fare i conti con queste brutte realtà economiche c'era e io credo che francamente ti dirò secondo me ce n'è ancora di più adesso ce n'è di più solo che è molto più dispersa solo che è molto dispersa e adesso l'aspetto economico è diventato forse secondario mentre l'aspetto su cui insistevo prima quello chiamalo proprio etico morale di decenza è diventato più forte però la gente si vergogna di dire che gli dispiace se è morto il nego fammi dire questa cosa però perché è interessante quello che tu dici ti do un punto di vista da chi la cosa l'ha guardata dall'esterno io quando vi avete fatto questa roba ero abbastanza giovane e l'ho vista con interesse ho fatto ah ok una cosa nuova seguiamola quindi ti guardavo molto in televisione mi ricordo lì in televisione da floris poi io ho questa cosa sadica che guardo molti programmi so che a te non piacciono non l'ho mai fatto ci sono andato in quel periodo adesso mi fa un terrore adesso mi fa un terrore però dovresti andarci credo io te lo dico ma è impossibile ma ci ho provato due volte è una cosa disastrosa ma ti invitano a parte che non mi invitano quasi più perché li ho mandati a fare in cura ah ok ma poi le due volte che ci ho provato ho rifiutato agora perché l'ho visto è una cosa indecente ho provato dopo mille assicurazioni di questa come si chiama l'ex moglie la moglie insomma non mi ricordo l'ultimo ex moglie mi confondo va bene non importa ero dove ero in giugno che poi me ne sono andato subito perché c'era Sgarbi che diceva ah vabbè ok no guarda è sempre no andate ci va da qualcun altro tu non sei più no a quel livello lì preferisco di gran luogo secondo me è infinitamente più utile questa chiacchierata qua eh ma raggiunge meno persone ma chi se ne frega eh però se tu vuoi fare massa critica devi raggiungere tante persone ma ritorniamo al punto di prima sì ma infatti è un cane che si morde la coda ma no ma ritorniamo al punto di prima Alessandro non importa adesso fare massa critica adesso massa critica facciamola nei 5 milioni una volta che riesci a convincere quei 5 milioni che devono avere fiducia in se stessi che ci sono degli altri that are not standing alone ho capito sì ho capito quello è il tuo allora forse poniamoci il problema qualcuno più giovane uno come te un quarantenne si porrà il problema di dire ok ok costruiscono un'ipotesi politica alternativa a questo pattone al momento infatti basta guardare cioè Zingaretti imita i pentastellati solo che sa usare i congiuntivi Renzi sembra un isterico sfigato con le frustrazioni soffre il fatto di non essere più quello che era e avrebbe voluto essere capita sì anch'io volevo essere Michael Jordan però quello che volevo dire qualcuno glielo dovrebbe suggerire pensi che sia di che cosa penso che in tanti glielo dicano face it eh ma tanti penso che glielo dicano in tanti face it Matteo ma infatti secondo me Matteo Renzi ti sarà il nuovo D'Alema mamma mia che tristezza io penso che anche perché il secondo l'avendolo conosciuto bene perché tu sai io ce l'ho anche l'altro passato sì tu sei pieno di passati sei pieno di scheletri ma no scheletri non sono in armate io li metto in pubblico li metti in pubblico li metto in pubblico con totale sì sì sono scheletri però sono belli puliti non hanno non ti cascano addosso non t'hanno prima che mi dimentichi di dirti questa cosa mi ricordo come ho vissuto questa questa questione di fare per forma del declino mi ricordo che ti guardavo in televisione mi ricordo che ti trovavo arrogante cioè perché tu avevi questo atteggiamento di adesso ve lo spiego sì sì ce l'ho io dicevo ok e mi ricordo che io ti trovavo arrogante ma ti ascoltavo ma nella mia cerchia di amici e tutto a fare per forma del declino era abbastanza detestato ma soprattutto emerse la questione allora quella di Zingales sembrò una una pugnalata Giannino io la vissi così mi ricordo che mi confrontavo con amici parlavamo spesso di politica perché poi queste passioni nascono sempre in gruppi di amici non si solo e mi ricordo che sembro quasi una tecnicalità sulla quale persone elite uso la parola elite per spiegarlo velocemente si scornano senza che agli altri interessi tanto tipo a me non interessò tanto ok dissi un po' vabbè ok Giannino ha fatto sta cosa però non 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 l'ho vissuta con estremo ma questo io non lo so dire neanche lo voglio valutare visto che la reazione è stata quella che è stata gigantesca quindi siamo tu sei sicuro che la c'è la cosa di cui povero che lui sta pagando secondo me più del dovuto perché questo paese Maramaldi di fronte all'uomo debole colpito è continuato a Maramaldi già cioè mi ha fatto impressione circa un anno qualcosa fa quando ha messo Conte a fare il primo ministro anche Conte è uno che ha mentito sul civil plateare perché hanno cambiato le pagine in Wikipedia eccetera ma ci abbiamo provato io l'ho anche documentato ho anche chiamato gli amici verificati erano tutte balle aveva il civil falso certo in maniera diversa da come c'era falso Giannino cioè falso comunque sei la bugia bugia è no una volta che c'è no quando palesi qualcosa che non hai è palesi qualcosa che non hai e ovviamente facendo parte del potere in quel momento eccetera eccetera tutto sparì ma a me sorpresa colpì una cosa e non faccio il nome non perché non vorrei anzi perché chi l'ha fatto è un Maramaldo però non sono sicuro che del nome uno degli editorialisti noti del Corriere di quelli che scrivono regolarmente in prima pagina del Corriere utilizzò la la storia di Conte per ritirare fuori Giannino e mi sembra un atto di una squallido di una bassezza infinita che mi disse da un lato sta maledetta storia sei anni dopo cinque anni dopo no perché era il 18 quindi rispetto a tre cinque anni dopo non è ancora finita e dall'altro questa gentaglia che scrive sui maggiori quotidiani italiani nelle loro fastidi eccetera e continuano a inferire su costui invece di parlare del nuovo vero responsabile che faranno domani primo ministro certo perché Conte secondo me è una questione psicologica non so se italiana o umana Conte era percepito ed è percepito tuttora come qualcuno che è ancora in forza mentre Oscar oppure anche Lacrime di Elsa Fornero lo stesso discorso tuttora io parlo con persone che dicono la piagnona questo discorso che per l'altro è anche un po' umanamente un po' brutto infatti io con Elsa ho fatto apposto di intervista e ti dirò una cosa abbiamo deciso e spero che lei trovi anche un po' pianzana di me che sta anche a girare molto comunque a ottobre ci facciamo cinque università assieme invitati da gruppi di studenti di organizzazioni di studenti cominciamo dal nord che è più facile sia per lei che per me muoverci perché invece Elsa ha reagito e mi è piaciuto molto come ha reagito a quell'umiliazione che è stata sottoposta e secondo me ha tirato fuori di sé una persona che io conosco da parecchio tempo ben precedente quando era ministra ha tirato fuori un aspetto combattivo e no io piangevo perché mi fa male doverlo fare io ma quelle cose che lei ha fatte le abbiamo scritte assieme dieci anni prima in un rapporto per Maroni dicendo a Maroni di farla ok proprio lei e io e hanno interpretato quelle lacrime come appunto la piagnola sono anche emozioni veri capisce perfettamente che sta prendendo una decisione difficile perché una volta che viene attaccato a un elemento e credo che lei invece abbia avuto il coraggio di dire no io non sono per niente della piagnola anzi sono qua adesso sei anni dopo davanti a voi a dire I stand by what I did io lo trovo un ottimo esempio pensi che sia percepito oh sì è palese palese dove va è percepito dove va è percepito io le ho consigliato di andare meno in questi spettacoli in questi talk show dove viene attaccata dilleggiata in cui non ha la capacità e il tempo per esprimere se stessa perché lì invece la usano come come strumento perché di nuovo qui insomma è una cosa che ti ho sentito c'è un pezzo d'Italia che ha bisogno di qualcuno da odiare Elsa da questo punto da questo punto di vista è la negra capisci svolge la stessa funzione è stata trasformata in un simbolo in un simbolo d'odio in un simbolo nemico e secondo me lei farebbe bene a se stessa non permette non lasciarli che facciano voodoo sulla bambolina invece di avere la vera e tutti questi programmi televisivi non scampi nessuno con danni tutti tu ne scampi qualcuno beh ad esempio allora cioè io anzitutto è complicato ti dirò la verità non li guardo quindi io conosco solo quelli dove sono andato ok ma tu non guardi la televisione italiana in genere io non guardo la televisione in genere dall'estate del 1989 ok ok tu sei che tu sei una persona particolare ok oddio qualche volta guardo la televisione partite di calcio qualche partita di pallacanestro lo sporto lo guardo in televisione tour de france me lo guardo ah wow ok mi piaceva la bicicletta quindi quelle cose lì le guardo però no non guardo i talk show proprio non li guardo non li guardo mi rifiuto perché tu pensi che sia una questione di tempistica televisiva perché come ti ho detto io voglio questa cosa ma guarda tu e io scusa ok cosa abbiamo fatto madonna adesso chiudiamo ma quindi pensi che sia una questione di tempistica ma la vendono ma la vendono perché vogliono vendere un prodotto che è trash da sempre hanno deciso di rinunciare di dare informazione seria alle masse una storia vecchia è la funzione della televisione pubblica che ha costruito questo nel momento in cui ha deciso di competere con Berlusconi sul suo terreno e invece di coltivare l'altra nicchia questa è una cosa molto interessata che chiaramente è una scelta politica Berlusconi ha deciso di vendere cacca attraverso le sue tv a una certa fetta di italiani che ne avevano bisogno a partire dalla fine degli anni 70 a un certo punto la Rai televisione ha deciso di competere con Berlusconi sul terreno e Berlusconi invece di dire io faccio BBC e adesso è una guerra perché come al solito se giochiamo per la stessa pubblicità e beh la pubblicità siccome è una va fatta per per chi? per la moda della distribuzione sempre termine tecnico allora prova a pensare ci sono cinque tipi di individui ok quattro di essi la faccio semplice hanno una frequenza del 15% nella popolazione quindi 4 per 15 60% poi il quinto tipo è il 40% quella è la moda ah ok la moda è allora se a un dato momento del tempo io ho un minuto di pubblicità da mettere a chi la voglio direzionare a parità alla moda quindi se andiamo tutti nello stesso momento per lo stesso segmento andiamo tutti a vendere alla moda cosa succede? che paradossalmente facciamo una cosa razionale perché 40% è maggiore di 15% quindi qualsiasi altra delle quattro scelte che più però contemporaneamente abbiamo perso il 60% degli spettatori tu sei convinto che sia solo una questione economica non ci sia ad esempio la questione dell'influenza della politica nella rai io credo io credo che ci sia stata l'interazione fra le due l'interazione fra le due è bestiale perché entrambi vanno per la moda giusto? certo l'interazione fra le due è stata fatale che è una delle cose che la sinistra non ha capito che in un mondo in cui ti domina Berlusconi se tu vuoi mantenere e continui a difendere una televisione pubblica così gigantesca fai due errori simultaneamente uno è che questa qua dovendo andare a finanziare ti finirà per competere con lui e quindi lo imiterà e quindi stai ristringendo lo spazio cioè quello che devi fare è riuscire a costruire una situazione sempre un esempio mio cinque gruppi diversi 15-15 tu vuoi cinque televisioni basically o cinque segmenti di mercato con quante televisioni vuoi poi all'interno competendoci una per il primo 15% una per il secondo una per il terzo finché la percentuale è grande abbastanza che ti paga i costi fissi tu ci stai in quel mercato cazzo c'è Discovery Channel certo ci sei tu no sono io addirittura beh io non ho i corsi mi sono no ma mi hai capito sì sì ho capito però per fare quella roba hai bisogno di un mercato certo se tu accetti quello che hanno accettato il duopolio fra Berlusca e quell'altro devi competere con Berlusca anche perché sei uno strumento dell'opposizione a Berlusca all'inizio perché la TV la RAI del prima metà degli anni 90 seconda metà degli anni 90 è una RAI che viene dal DC PC PSI quindi si oppone a Berlusconi sì e quindi quello è il peccato peccato originale e l'hanno pagato perché poi Berlusconi ha messo i suoi perché poi progressivamente si è avuto e adesso la stanno pagando al quadrato adesso sono tutti lì scandalizzati oh questo delinquente questo contaballe presidente della RAI oh Freccello hanno perfettamente ragione è diventata è diventata una cosa vomitevole ma signori miei cioè davvero non si rendono conto che stanno 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 li stanno pagando con la loro stessa moneta di molto eh te lo dico te l'ho appena detto cioè di nuovo Oscar cioè andiamogli qui quando Oscar pubblicò l'hanno addirittura condannato la lista dei 900 lottizzati pubblicò la verità sì di quei lottizzati c'erano due che forse non erano lottizzati che per caso erano finiti erroneamente nella lista e gli è costato quello che gli è costato hanno lottizzato la RAI ci hanno messo i loro hanno messo la loro gente no Bianca Berlinguer lì c'è perché è una grande giornalista la signora Palombelli è lì perché è una grande giornalista ah hanno fatto il Volta Gabbana adesso la signora Palombelli è tutta contenta di avere sgarbi che urla che i magistrati sono tutti comunisti di merda bravi la sinistra non deve che ringraziare se stessa perché la signora Palombelli la signora Berlinguer e tanti altri i Floris non li hanno messi lì perché sono i migliori giornalisti del mondo è tutta roba che è andata lì perché corrispondeva a un certo disegno politico le carriere interne le hanno fatte così adesso questi stanno facendo di più a me sembra solo la logica conseguenza ho capito però rimane il fatto cioè assolutamente condivisibile a quello che hai detto rimane il fatto che ad esempio io Cottarelli l'ho conosciuto tramite la televisione ma perché guardi questa trasmissione di questo Fazio no Fazio non lo guardo però mi capita di guardare Lily Gruber ad esempio è presente giornalista trentina ok mi capita di vederla ovviamente se ci sono persone ma anche lì come fai ad avere uno che fa giornalismo e che è stato deputato di un partito cioè in altri paesi non succederebbe una cosa del genere una totale anomalia allora so che le sue le sue posizioni politiche sono alcune però ad esempio ne ammiro la capacità di gestire un dibattito oppure di contrastare ti assicuro io non lo so se poi è bravissima rispetto ad altre persone all'estero non te lo so dire non che gli Stati Uniti poi abbiano da insegnare tantissimo sotto certi aspetti hanno tantissimo giornalisti non so guarda Fox News quelle robe lì e dico wow ah ma vedi allora puoi fare una scelta puoi decidere di comparare la media del tuo paese con il peggio degli altri ah ok ho capito o se vuoi puoi provare a comparare la distribuzione con la distribuzione o la media con la media ok questo non è la media quindi tu dici Fox News è una roba a sé stante però il resto non è così tipo BBC voglio dire i soci sono strapieni in questi giorni di gente che si diverte a postare interviste pesanti giustamente di giornalisti tipicamente anglosassi ma non solo anche francesi anche spagnoli ai loro politici dicendo così questa è un'intervista questo qua è un martello certo Fox News è un canale che ha scelto di essere il canale della destra esattamente come se tu fossi se ti stessi sulle balli a sinistra mi diresti c'è come si chiama il canale di CNBC o MSNBC uno dei due che è estremamente spostato ok allora cancelliamo Fox News però c'è anche un casino di roba in mezzo ok però non voglio parlare di questo NBC CBS fanno un'altra cosa però tipo non è così strano sapere che un giornalista un Cooper no come si chiama quello con i gabili bianchi molto famoso per quanto io lo amiri in gamba io ho visto l'intervista che fa lo sai un pochino come l'orientato ma il problema non è che abbiano delle loro opinioni infatti non le nascondono ok allora ma non è mai stato organico un partito ah una separazione molto attenta ok è un mercato privato se non vende cioè David Letterman beh la 7 la 7 è così è privata cosa significa facciamo stare perché se no bisogna discutere su la 7 il Corriere della Sera il ruolo della pubblicità la gestione dell'informazione in Italia l'informazione non è privata ok va bene eh beh Alessandro ok allora comunque sto cercando di riportare il discorso riportalo ok non mi ricordo neanche più dove ci siamo ho detto che l'assenza adesso non dico che tu debba andare in televisione io te l'ho consigliato ma se non lo vuoi fare tu qualcun altro lo deve fare oggi non ci sono le condizioni non ci sono le condizioni io credo che non ci sono le condizioni infatti io non credo che Carlo faccia una buona cosa a farlo ma credo che Carlo abbia obiettivi diversi dai miei non ci sono le condizioni io sono infatti dell'opinione dell'opinione che occorre accettare perché l'ho menzionato Fazio so che all'inizio avevano un accordo che Fazio lo sentiva regolamente dove c'è la possibilità di andare in televisione e discutere tranquillamente con fact checking con regole si può fare infatti tutte le volte che mi hanno invitato ho chiesto delle garanzie non mi sono state dato e ho detto di no e ti ho smesso di invitarmi però come hai visto io ho provato a fare degli esperimenti ho fatto tre dibattiti ultimamente con persone che hanno le posizioni molto diverse le mie due sovranisti sì l'ho seguito sì 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 con i quali abbiamo ci hanno scambiato l'email l'ho fatto apposta per iscritto queste sono le regole e stiamo sulle regole rispettiamo le regole dieci minuti te dieci minuti io non ci si interrompe non ci si offende se un altro se uno ti chiede i dati devi esibirli uno ha il diritto di mostrare i dati che ti controlla eccetera eccetera a mio avviso hanno funzionato perfettamente bene a mio avviso tutte e tre permettono a chi ascolta e a voglia di ascoltare di capire chi sta dicendo le cose logiche supportate da fatti e chi non capisce ora non è che devono fare in televisione dei lunghi dibatti di un'ora e mezza tra due professori per carità io credo che se c'è l'opportunità di poter andare a articolare il tuo argomento e che poi l'altro articoli il suo e dimostri che hai torto va benissimo se è un giochetto di battute non c'è più tempo scherzi cambiamo argomento urla insulti e stronzate è inutile è dannoso perché gli dà illegittimità io l'ho detto anche a Carval gli ho detto anche a Elsa bisogna vuotare sta gente io forse perché sto prendendo la situazione ancora più seriamente di quanto forse voi la prendiate io credo che ci sia oggi uno scontro vero che non deve essere a sangue non deve essere violento ma vero è che occorra assolutamente delegittimare la feccia il problema sai qual è però la feccia va delegittimata però non lo so se è ritirandoti sulla ventino ma non è ritirandoti sulla ventino costruisci i tuoi canali di informazione ok quindi con questo approccio chi l'ha detto di costruire una sola ventino ti do l'idea di uno sulla ventino io no però cioè vanno delegittimati sparendo completamente dalla televisione cioè il fatto è che la televisione la guardano la maggior parte delle persone torniamo sempre lì ma la televisione questi vendono un intrattene in cui c'è un nemico sì se gli togli il nemico si sputeranno in faccia fra di loro dovranno inventarsi loro il nemico capisci se gli togli la Elsa da insultare dovranno insultare Brambilla va benissimo che si insultino fra di loro ho capito che trasformino che trasformino la taverna in una persona da insultare o viceversa o Giorgetti sia quel che sia che Rinaldi si prenda a torta in faccia con Sgarbi visto che è quello che devono vendere ma perché devi andare tu cioè quello che ho fatto con la mi scordo continuamente il nome quando mi sono reso conto che ero lì per fare la vittima designata di Sgarbi io ho detto arrivederci questa pattumiera non ci sto fatemi litigate fra voi tiratevi le sedie come ho visto si fanno insultatevi dite cazzo non è perché ho problemi a dire cazzo è che cazzo lo devi dire come dire in modo motivato certo non è così cazzo 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 solo per offenderti così perché devo farlo cretino ok siamo capiti capisci io credo che vadano lasciati i nudi è un invito proprio continuo a farlo e l'altra cosa che va fatta è occorre invitare le persone che poi è così distruite affluenti a non guardare più i talk show perché tu lo sai meglio di me chi fa il controllo dell'audience chi fa il controllo di chi guarda controlla anche lo stato economico sociale ok e la pubblicità vale molto meno se nel pubblico non ci sono persone diccolte se nel pubblico che ascolta il reddito massimo medio è 18.000 anziché 74.000 ho capito è una guerra in lunga durata dottore sì sì ho capito dopo tutto questo periodo adesso la chiudiamo ma ho capito ho capito ho capito molte cose avevo presupposto delle cose diverse è stato interessante volevo chiudere in realtà blastando Manfredi ma non c'è tempo dai fallo che dopo Thomas è uno sportivo no ma in realtà se ne parlo così dovrei anche spiegare cosa è successo non so se abbiamo il tempo perché voglio farti un'ultima domanda vai vai anche se devo dire che la ok lo dico velocemente allora tu eri in una live Manfredi come si chiama di nome? Thomas 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 Manfredi ha saltato fuori il mio nome non so bene come ma guarda non lo discorso non lo ho fatto io perché io nemmeno sapevo chi eri infatti mi ricordo che finché lui si incazzava io di corsa sono andato in rete a guardare chi eri ho visto lui faceva ok parliamo di figa con Shooter Eizio mi pronunciava male il mio nome poi Shooter Eizio fa personaggio perché non mi ha chiamato il nome e cognome vabbè mi ha fatto mi ha fatto molto piacere in realtà che la chat si sia rivoltata contro e la gente poi gli ha detto ma guarda che in realtà ma guarda che in realtà esatto il fatto credo che anche lui poi ce ne sia sì no è stato divertente in realtà perché poi io l'ho cercato su Twitter la questione di te come dire su Petartarave era in contatto per due minuti però è interessante il discorso che lui stava facendo era a che titolo ma stavamo discutendo appunto sull'abbondanza di persone che parlano a cazzo ok quindi lui ha presupposto e lui ha fatto praticamente un 2 più 2 sbagliato quello non è un problema secondo me non può essere sintomo di un problema certo ma vedi però la cosa buona che in un ambiente trasparente in un ambiente trasparente dove la gente appunto ha la capacità di verificare da un lato i nostri stessi ascoltatori ci hanno detto Thomas, Michele, Gianluca Agostino guarda che avete preso un granchio cioè magari non vi piace la maniera in cui lo fa per carità queste robe sono soggettive magari voi parlereste in una maniera diversa Alessandro però questo non è uno che racconta balle eccetera e poi noi abbiamo reagito io ho reagito dicendoti mi dispiace scusami poi gli ho detto anche quando ho visto che aveva scelto l'obiettivo sbagliato ho detto Thomas lasciamo stare e anche Thomas tranquillamente credo l'abbia capito poi ovviamente ci stavano mi ha fatto anche ridere ognuno di noi siamo umani siamo umani però chiedevo se questo a prescindere dalle battute quello però a me è sembrato un ottimo esempio di come riesci a evitare in diretta cioè come se sei trasparente e non sei in cattiva fede in mala fede l'autobufala te la corregge perché c'è una sovrapposizione tra il mio pubblico e il tuo però sì ma no perché uno di noi è andato a guardare chi eri e ha detto ma no ma dai magari dice cazzate però non mi sembra io letteralmente credo di aver detto magari dice cazzate però occhi e crociano mi sembra un disastro perché non sapevo chi eri quindi sono andato di corsa e non è che potevo mettere l'audio sì sì no davvero cioè vai e anche anche non blastimo più ma no no blastimo ma anzi Thomas ciao ok dimmi una cosa volevo chiudere con questo perché io mi ricordo quando avevo 25 anni più o meno è stato il momento nel quale è arrivato il movimento 5 stelle è proprio il momento dieci anni fa circa e io all'inizio mi ricordo che l'ho visto positivamente certo non tanto il movimento in sé non tanto Beppe Grillo che a me non interessava non mi piaceva neanche come comico non è lontano dalla mia generazione mi avevo apprezzato quella che percepivo una ventata di novità rispetto al periodo berlusconiano nel quale percepivo un declino di tutti i tipi no però proprio il periodo finale berlusconiano la corruzione della quale si parlava spesso eccetera avevo 25 anni certo ok ho in realtà realizzato che poi il problema del movimento 5 stelle è che invece di imprimere è una mia opinione di imprimere una responsabilizzazione della società gli abbia dato delle scappatoie tipo no non è colpa vostra è colpa dei giornali è colpa del boh di qualsiasi cosa è colpa dell'Europa è colpa di di berlusconi stesso è colpa tante scappatoie della tecnologia cattiva tante cose esatto esatto grillo multinazionali le lopi tante cose quindi tutte le cose delle quali tuttora si parla di battista ne parla continuamente di nemici nascosti no e quindi secondo me questa responsabilizzazione continua del paese non gli ha fatto bene quindi da quando avevo 25 anni a quando adesso ne ho 35 è cambiato molto nel modo che io ho di rapportami all'Italia queste speranze che io avevo di riscato perché io le ho vissute proprio in piazza non voglio dire che sono perdute perché continuo a fare quello che faccio ci credo però si sono riformate quando tu avevi 25 anni rispetto a da quando tu avevi 25 anni ad adesso com'è cambiato il tuo approccio alle cose all'Italia dunque quando avevo 25 anni pensavo solo una cosa che era finire di laurearmi e scappare in America quindi non eri ancora in America a 25 anni no ero a 26 e mezzo quindi per riuscire a mettermi nello stesso piano dovrei raccontarti di quando ne avevo forse se non 15 18 e cioè la fase post 69 prima metà anni 70 con le varie fantasie col senno di poi sulla rivoluzione socialista dai movimenti del peggio sì quella è stata però è andato un po' diverso perché non è diventato un movimento politico e il sogno della palingenesi è svanito molto rapidamente almeno in me almeno in me cioè io sono un figlio di quella generazione in cui a mio avviso successe molte cose utili non solo in Italia anche in altri paesi europei liberati da un pezzo di passato anche oppressivo c'è stata una massificazione dell'educazione eccetera eccetera la crescita economica ha portato masse prima escluse dalla vita sociale e politica a farsene carico e a un certo punto ci eravamo sognati che tra studenti operai avremmo costruito questo paradiso a me personalmente la fantasia quella lì devo dire quella entusiasma è durata molto poco non ho mai creduto una rivoluzione anzi mi ricordo 16 anni che mi ponevo il problema concreto di come si fa la rivoluzione arrivando alla conclusione che non si poteva fare la rivoluzione che era una stronzata mega galattica tornavo a scuola dicevo ai miei compagni mi dicevo guardate ragazzi io ci ho pensato cioè provate a pensare concretamente ma non funziona è una roba completamente assurda non può funzionare adesso c'è un'altra cosa quindi personalmente quegli entusiasmi li ho vissuti ma mi sono passati tranquillamente e dal passaggio d'Italia a Stati Uniti ma dal passaggio a Stati Uniti è stata una scelta diversa io lì ecco quello è stato il momento della delusione dell'abbandono perché insomma io ho fatto una certa militanza studentesca eccetera eccetera che è diventata una militanza intellettuale poi ho fatto il giovane dirigente della FGC pensando che la società e la democrazia fosse la strada mi sono reso conto anche lì molto rapidamente che neanche quello mi convinceva che non andava da nessuna parte e ho detto meglio che faccia quello che mi piace e cioè mi metta a studiare e a capire vedere se capisco un po' meglio come va il mondo ho fatto l'opposto di quello che Marx consigliava ai comunisti a metà ottocento diceva i filosofi fino ad ora hanno solo interpretato il mondo ora è tempo per cambiarlo e ho detto beh visto che il mondo non ho capito proprio come funzioni meglio che mi metta a studiarlo interpretarlo cambiarlo lo lascio agli altri e quello ho fatto quindi quando avevo 25 anni pensavo a capire il mondo e non però capisco il punto di vista tuo e ti dirò di più questo è un problema tutto italiano che diveriva in parte dal fatto che siamo profondamente cattolici in una certa maniera e cioè che crediamo nella palingenesi nell'atto magico risolutivo nella risurrezione la quale è una bella metà una bella allegoria che è un po' la rivoluzione esatto noi crediamo nella risurrezione nella Pasqua ed è una bella allegoria perché è una allegoria di speranza eccetera però se la trasformi continuamente e ti diventa il punto di riferimento di soluzioni dei problemi sociali è purtroppo una tragedia perché non ci sono le risurrezioni i cambiamenti sociali sono sempre delle cose errate le rivoluzioni in un certo senso sono tutte fallite assolutamente tutte forse quella che è fallita meno è stata la rivoluzione francese nel senso che una serie di cose di semi che ha lasciato però nell'immediato è fallita pure quella finita con Bonaparte e questa nostra profonda convenzione italiana antica Masaniello cioè siamo della palingenesi del fatto che a un certo punto cambiamo tutto dalla mattina a sera e questo fa parte credo della battaglia culturale che va fatta che i cambiamenti specialmente oggi in una società così complessa con 60 milioni di persone con queste stratificazioni eccetera li fai solo lentamente che non vuol dire che devi adattarti continuamente puoi tenere la barra dritta e guardare l'obiettivo accettando che la navigazione è lunga è una maratona e che ci sono delle isole in mezzo che arriveranno gli squali che la barca a un certo punto farà acqua dovrei aggiustarla tante robe io così la vivo io così la vivo adesso non ho nessun sogno anche fermare il decreto non è che avevo il sogno dove andava mi sarebbe sembrato stanno che tu mi dicesi no adesso voglio fare la rivoluzione no ma contentavo la rivoluzione era prendere il 5% poi sarebbe diventato forse l'otto e si trattava di piantare la bandierina e dire guardate ci siamo siamo qua ho capito la realtà del paese quella avete chi ha pazienza voglia di rimboccarsi le magniche noi ci siamo chi vuole il destino auguri mi sembra che il problema sia ancora quello non ti pare va bene ti libero grazie mille per la chiacchierata mi liberi sì 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 mi libero dal lavoro questa è salviniana ottimo compagno di Mirta grazie mille per la chiacchierata grazie a te è stato un piacere ciao mamma mia grazie mille per la chiacchierata